Ragazzi buongiorno e buona domenica Mi sentite? Allora Io vi leggo Ma la vera domanda è Voi mi sentite? Mi sentite bene? Il gioco l'ho sentita? Vediamo facciamo la prova Sì lo dovreste sentire Dovreste sentire tutto quanto Buonasera Kevin Buonasera Alle 11 di mattina Già buonasera Ah ragazzi stiamo iniziando già ad arredare la stanza Guardate qui Abbiamo alla deriva Pazzetto Ci farà compagnia per questi primi Tempi della nuova casa Stiamo ragionando un attimino Su come arredarla Ma per adesso Alla deriva Starà lì A farci da mascotte Diciamo così Diciamo così Diciamo così Regà oggi ci abbiamo Magari non tiriamo i cazzotti all'asta Oggi ci abbiamo un po' di cose da fare Perché Che cacchio vuol dire Non ti sentiamo bene In che senso non mi sentite bene Mi dovete sentire bene ragazzi Bella Romanna Buongiorno Mi sentite bene Sentite bene pure Serena Non fate scherzi Allora stavo dicendo Regà oggi ci abbiamo un bel po' di cose da fare Perché Dobbiamo andare a shoppare questa nuova skin Eteria E direi che l'andiamo a shoppare Ah giusto Devo shopparla anche A mille like Dai regà Mille like Andiamo a shoppare Eteria Qui Come cacchio si chiama Eeeh Poi Eteria Hai detto giusto Sì sì A mille e cinque Andremo a shoppare anche il piccone A duemila like Magari andremo a shoppare Ciclone Sì Mi hai fatto notare che non ho switchato account Roman Ecco perché non vedevo certe cose Grazie Eeeh Pa 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 Mi sa che poi non ci manca più niente Mi sa che poi no Non ci manca Più nulla Se non appunto andare a finire le sfide Perché dobbiamo andare a completare delle missioncine di Ma perché Rachel Roth la chiamano qui? È il suo nome Ho capito ma è in italiano Che vuol dire? Non c'ha un nome in italiano sto stile scusa È il suo nome Tu che tradurresti Luigi Puccianti in inglese? Certo Io l'avrei tradotto in qualche modo Tipo Rachele Aspetta come si chiama? Rotte Rachele Rotto Eeeh Io l'avrei fatto Io l'avrei fatto Allora Eeeh Commenti Sul Sull'audio No non mi sembra Quindi sembra tutto buono Esatto Esatto Roman Esatto Ma palesemente Beh andiamo a Cerchiamo di sbloccare Rachele Rotto Rotto però Rotto Allora Aspettate però Dobbiamo completare Quegli epici Trascorri sette secondi Entrò sette metri di un pollo in fuga Eeeh Detto ciò Io mi vado a prendere Il mio budino di soia Che fa Tu non hai fame No considera la storia Cominciando a sentire il problema di ieri Purtroppo Quindi abbassa un pochino il gain Aspetta magari mi sei resettato Usa un vasetto di lu Eh infatti adesso non lo sento più Perfetto Perché appena si accende si resetta Allora 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 Usa una granata onda d'urto su di te Mentre sei nella tempesta Questa è una rottura di scatole Perché dobbiamo trovare le granate onda d'urto Lo salvo con il microfono Questa Eh Vabbè Eh però ti sento abbastanza piano E mi ero allontanata Ah ok Mi stavo alzando Devi boxare con te un pollo Sì è vero È vero Dove vuole qualcosa per la colazione? No attualmente no amore Tranquilla Eh Bella Lucas Ciao Alessandra Buongiorno ragazzi Buongiorno a tutti Eh Beh Allora quindi dobbiamo cercare un pollo Eh Trovare sti libri Usare un vasetto di lucciole A pozza della pizza Vabbè quindi andiamo lì e cerchiamo Ma si trovano qui I Le lucciole Boh vabbè dai Startiamo la partita Se no qua non iniziamo mai Se no qua non iniziamo mai Solo l'unica cosa è che per controllare i like Ogni volta mi devo girare tipo così Per esempio Siamo 530 Ma siamo ancora sotto i 400 like Regà Mille like e scioppiamo una nuova skin Forza Che stiamo a fare? Che stiamo aspettando? Che cosa stiamo aspettando? Cannaggia la miseria Le tavole da surf Devono uscire le tavole da surf Che senso te sai quando escono le tavole da surf Sì tra l'altro livello Oggi Regà mi sa che sblocchiamo un botto di roba Perché Allora Innanzitutto Io nella miniatura ovviamente ho messo Corvina Rinata Lo stile Ovvero Rachele Rotto Ma dobbiamo anche sbloccare lo stile di Coccodè Che è molto figo ragazzi Lo stile di Coccodè Molto bello Dopodiché Dato che dobbiamo fare parecchie sfide Soprattutto epiche Molto probabilmente Andremo anche a superare il livello 225 Che ipoteticamente È il livello in cui si va a sbloccare L'assassina della Cuglia Dorata Ah regà io non ho ricambiato le impostazioni grafiche Ciao Karen Buongiorno Non ho ricambiato le Belle Eugenio Non ho ricambiato Vabbè regà Oggi live con le impostazioni grafiche da prestazione Dai Francisca Grazie mille per l'abbonamento Caro benvenuto tra gli abbonati Un bacione Grazie a vero di cuore per il supporto Bella Francisca Non credo si legge a Francisca Penso Francisca Dai penso di averlo letto bene Mannaggia mannaggia Si è tornata a usare il pad Si 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 no regà ovviamente Cioè Mouse e tastiera Li andrò ad utilizzare giusto In momenti particolari Dove devo fare qualche challenge Dove devo fare qualcosa di Appunto di particolare Perché se no continuo a giocare col pad Ragazzi Perché dovrebbe abbassare l'FPS Prima domanda Come abbassare? Seconda domanda YouTube le trasmette 60 Più di 60 voi non le vedete Quindi se lui le diminuisce A voi non cambia nulla Sì no infatti ragazzi Cioè voi non vedrete Più di 60 FPS Ma stanno a venire Tipo tutti qua Perché c'è la missione Probabile Ma le lucciole qua Dove si piano ragazzi? Perché sto mangiando Karen E mi sono allontanata Sono sentite Vabbè non mi prendeva La mitraglietta Perché sopra c'era Il cavolo Sto facendo colazione Dove le prendo qua Le lucciole raga? Ci sono un botto di lucciole Dentro del ristorante Al piano di sopra Al ristorante Al piano di sopra Ok Ok Non ho materiali? Molto male No Quello c'è Cosa Un daturto Non sarebbe male Pigliarlo Dai ma questo Già si era fullato Oh Ristorante del pomodoro Ma raga Ma me sta da prendere in giro Ma me sta da prendere in giro Me sta da prendere Ma perché c'è tutta sta gente In un posto Così desolato Non mi va di Di traiardare Domenica mattina Dovrebbe essere domenica mattina anche per voi Mannaggia la miseria Dai su ma pure di domenica mattina Nella mega collina ce ne sono un po' Eh raga io le lucciole non uso mai Quindi non Ma poi non ho capito Ce le devo prendere Le devo lanciare a caso? Cioè In che senso? Ieri le stavi a fare con me Le spide Mi sento tradita Eh ho capito amore Mo qua me do sbricare Le devo fa' Perché se no in live Ne finisco più Ma normale amministrazione Karen Normale amministrazione Like non te lo farà mai mettere Ma neanche a me l'ha messo Vabbè va ottimo Quindi a mille like Non ci arriveremo mai Penso che adesso L'abbia tenuto Le devi lanciare al ristorante Ma il ristorante era quello lì Quello giusto Quello dove Lì al secondo piano Si trovano le lucciole Ah giustamente Ne si vede Se ci fa notare Che le lucciole La scorsa settimana Se ne trovavano molte di più Perché aveva la settimana del fuoco Ah è rip Quindi magari tanti dei posti Che ti stanno dicendo in chat Adesso non le hanno più Le lucciole No però aspetta eh Sta missione mi sa che è uscita Stasettimana rega O sbaglio Eh Però di no Si si vabbè Un pochetto però Mi sa che sono coincise Col cambio Oh No il problema rega E' che lì ci sono Due ristoranti Quindi A Pozza della Pizza Vabbè quindi Al ristorante Quello della Pizza Ma te lo segna eh Quando fai la cosa Si però rega Il fatto è che là C'era troppa gente Cioè ma in che senso È venuta Cioè eravamo almeno 6-7 Siamo atterrati lì Cioè Il ristorante Quello azzurro Eh questo qui Questo qui Sì sì Però il problema Rimane trovarle Ok quindi No devo fare un botto Per Foschino Non mi parliamo Ciao Tommaso Tutto bene caro Tutto bene Per il tempo Per il tempo Poi rega Dovevo trovare pure Tutti quei libri Di Corvina Il problema è che Alcuni l'ho trovati Ma non mi ricordo Minimamente quali Ciao Sofia La collina Tutti quanti Ciao Sofì Allora qua sopra Di là Vabbè Io intanto Ludo un attimino Anche prima Tavano detto Nella collinona Aspettate ragazzi Prima ludo un attimo Stavolta Non siamo stati Fortunati Con un pompa Io cavoli Rega Nel dubbio Me li piglio sempre Prima mi stavano Per salvare la vita No vabbè però 15 Mi sembrano Più che onesti Allora aspettate 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 Un pollo Aspettate 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 Un pollo Eh però Non so se me lo calcola In corsa Adesso che sta così O si Me lo sta calcolando Beh sta correndo Ma dovresti far muovere Eh Se da una picconata Non scappa Oh vabbè Comunque Sette metri Rega Ci sto pure Se corre Non serve per forza Boxarlo Non serve per forza Boxarlo Raga Vabbè Comunque nel dubbio L'ho fatti Ok E una è andata Raga Tra l'altro Mi sa Ho sbloccato Anche proprio Coccodello Sì Coccodè Però rega Ma il problema Sono le lucciole Dove trovo Le lucciole Ma qua La collinona Mi avete detto Per collinona Tendevate qua O a trovarle Perché poi Come ogni cosa Quando non te serve Ce le sempre sotto mano Ma raga Gli incarichi della guglia Sono di nuovo Buggati L'hanno detto ieri Dove potrebbero stare Qui Se non le riuscite A completare Rip Raga lo so Che stanno pure Al lago Le lucciole Ma posso andare Al lago E poi venire Quassù No rega Comunque qua sopra Non mi sembra Che ci siano le lucciole No niente Neanche un pompa Per carità Comunque Si sto oltre Non è sceso nessuno Eh per le sfide Della guglia Tocca rispettare Che o le fixano Come al solito Completano la fase Buggata Loro in automatico Rega 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 io Non so più Dove possono stare Ste lucciole Rega Non mi dite Altri posti Mi servono Dei posti Qui vicino Non mi dite Stanno a fortezza Allora Allora aspetta Lorenzo Ti ho detto Che vicino Al camper Che c'è vicino A puzze Della pizza Ok Ok il ca Oh Questa è già Un'informazione Positiva No c'è uno Lì giù Spero non mi rompa Le scatole Fratelli Fatte l'affari Tua Eh no Niente Mi vuole proprio Pusciare Eppure è proprio Aggressivo Cioè fratelli Se me li pusha Così poi lasci perde No comunque Ti stavo dicendo Che la speed è vecchia Dove era uscita Nella settimana Del foo Ah rip Vabbè Ok qualcun altro Lo sta pushando Allora La roulotte Dovrebbe stare Tipo qui no Ah si è vero Mi sa che qua ci sono Le lucciole Giusto è vero Ci dovrebbero essere Qui Come però Sicuramente mi servirà Un po' di materiale Perché ne ho pochissimo Eccole No Sofia Si è scordato Cosa Di togliere le prestazioni Eh no Si Mi sono scordato Cioè raga Quelli che mi scrivevano Stanno al lago Stanno Di là Stanno di sopra Stanno di sotto Cioè come se tipo Che ne so Mi sento male E sto a Roma E mi dice No no A Napoli c'è un buon dottore Per dire No scendo Per adesso Si stanno solo Scandando In tribunale No rega L'ho lisciato Maledetto Niente Questo qua Ma proprio Puntato Doveva Pusciare Me Lui Allora Però una L'ho fatta Allora Adesso che ho capito Dove sono i luccioli Direi che scendiamo Subito lì Alla roulotte Vedete Coccodè L'abbiamo sbloccato Io direi di equipaggiare tutto Dai andiamoci a fare un po' di partite Con Coccodè Mancano pochissimi like Rega io vi ricordo Che a 1000 like Devo andare a shoppare Eteria Mi raccomando ragazzi Lasciate un bel mi piace E a 1500 like Vado a shoppare Anche il suo strumento di raccolta Quindi mi raccomando Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Se ancora non l'este fatto Mi raccomando ragazzuoli Contrate di essere iscritti Se non lo siete Iscrivetevi E ovviamente Vi ricordo Anche di utilizzare Il mio codice creatore Nel negozio oggetti Fortranet GGYT Tutto grande Tutto attaccato È fondamentale Per supportarmi Grazie mille Bella Toxic Boy Buongiorno a te Corvetto Buongiorno Buongiorno a tutti ragazzi Buongiorno Le build sono bellissime Sì Sono un po' particolari Sono un po' particolari 1100 like Siamo arrivati a 1000 Allora Però mi sa che Mo' sta a startare la partita Io nel dubbio L'ho shoppato Dopo l'andiamo a usare Veramente figa Sta skin Mi piace E tra l'altro Altro che sto dorso decorativo Dopo vi faccio vedere io Cosa le mettiamo Il dorso decorativo Dopo Le ho messo quello La copertura Le devi mettere Quella ombra È bellissimo Eh sì Ma anche come dorso decorativo C'è un altro in mente C'è un altro in mente Raga Molto interessante Molto molto interessante Guarda un attimo Whatsapp Vabbè Ah ma No regà Però Porca misera Gli ho lasciato sto piccone Non c'entra niente Sto piccone Buongiorno Bartolino Buongiorno Allora Qui quindi devo andare Buongiorno Robby Buongiorno Eh ma Quindi poi le lucciole Vabbè Io vado lì Le tiro un po' ovunque Tanto ho visto Che ci sono Quattro Quattro lucciole Pulito Sì 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 Ho messo la nuova mascotte Ho la nuova mascotte Qui dietro a me Ora non so Se rimarrà lì Anche una volta Finito l'arrenamento Però Nel dubbio Nel dubbio Perché si è colperata La cava Sì ma Ricordati anche Le cose Le copri Il copritavola Se C'è quella robetta lì Che ci serve subito Eh ma non lo so Vabbè Che si dice Da non mi dire Che non sponano sempre No allora Lì qui vedo Delle lucciole Allora raccogli Salta solo una Non hai ritolto Le prestazioni No lo so Lo so Ma ormai Ho detto Le tengo Anche perché Dopo non mi va Di farmi Due tre partite Dove laggo Perché ho ricambiato Le impostazioni Tutto bene Tutto bene Robby Tutto bene Dai Eh vabbè Eh vabbè E che cos'è Oh American sniper Cioè è precisissimo Dai per favore Mi fate fare questa qui Che è la missione più stupida Di tutti Dai per favore Questo mi sta pushando Anche così Dai Non ce la faccio più A fare sta missione Fatemela fare Ma perché la gente Atterra in sti posti Maledizione Infatti non me l'ha data Sì vabbè Mi fa anche il balletto Sto sfigato Oh mio dio Regà Dai non mi possono Far sbroccare così Di mattina La domenica Non ce la faccio più Non me l'ha data Eh no che non me l'ha data Non ci arrivavo Alla pizzeria ragazzi Non ci arrivavo Oh mio dio Non ce la faccio più Non ce la faccio Sì questo quasi sicuramente Era uno snappo sfigato Che non c'è niente da fare La domenica mattina Mannaggia la miseria Mannaggia Lo so Lo so che la devo lanciare All'altro edificio Regà ma non ci arrivavo Non ci arrivavo Non c'ho neanche materiali Per difendermi Da sto sfigato Non ho parole Non ho Non ho parole No regà Non mi va di fare Rissa squadre Non mi va di fare Rissa squadre Che piccone possiamo mettere A cocco Ciao Roby Ciao Roby Non mi ricordo neanche Ce l'ha Sì sicuramente Lui ci avrà un piccone Però Devi lanciarlo Ma poi non c'è Ma poi non c'era Una cassa Un tempo Cioè io sono andato Diretto lì Perché dico tanto C'è la cassa Dai Cioè Non c'è niente Qui intorno Non mi va di tipo Andare qui Puoi andare qui Puoi andare lì Oh mio dio Mi aveva messo 8 ping Mi aveva messo Vabbè Andiamo a lutare Magari la guglia Prendo Lo slancio Vado veloce La roulotte E poi Viene arrivato E vabbè Eh regà Non lo trovate Le lucciole Lì vicino Alla pizza Sì Anche al frutteto Potrei scendere Però Al frutteto Non è che ci sia Così tanto lutta Almeno poi Lì alla guglia C'ho anche Lo slancio Della Della torre Ciao Robby Allora Quella del pollo L'abbiamo fatta Regà Noi vediamo Un attimino Se c'ho Qualcos'altro Di rapido Poi da fare Trova libri Ah Usa la granata Onda d'urto Eh sì La stop e fa Quella Mannaggia La miseria Da quando è uscita Quella sfida Regà Non trovo più Una granata Onda d'urto Se le fa Nei server privati Non contano Le sfide Magari Regà Contassero Cioè Che sto scemo Che non le facciano I server privati Se contassero Se le contasse il gioco Penso che saremmo lì A fare le live Proprio da Sbloccare tutti Le sfide Eh sì Allora Ma quindi Nella roulotte Non c'è proprio Più una mezza cassa Non c'è proprio Più niente Ma è possibile Hanno tolto Un loot Nella Dalla roulotte Ah no C'era una cassa E che sono stato Io sfigato Prima che non è Spawnata No Mini shield Rip Grazie alla cassa Che prima non è Spawnata Ma quant'era bella La stagione dove Le casse Spawnavano tutte Al 100% Secondo me era Molto più competitivo Il gioco Quando era così C'era molto Proprio meglio Oltre che competitivo Era proprio superiore Come meccanica Di gioco Cioè secondo me Deve essere Il 100% Cioè uno Deve sapere Che se va lì Trova determinate cose Oh Sono scomparse Sono buggate le lucciole No Bartolino Fanno tipo Delle giornate speciali In cui spawnano Un botto Di quel determinato Pokémon Si Serena Ci gioca Tra l'altro Questa me la sono Perca Sono ieri Perché ieri Cosa spawnava Mi mancava Quel Pokémon L'uoblù Lì a casa Dei suoi Avevo pure Il Pokestop Vicino Mi mettevo Tutto Profumite E pure Da qui Dovrei No Dovevo ancora Aprirlo Da quando Siamo qui Io prima di tutto Però con l'NPC Ci parlerei Un secondino Penso sia troppo Lontano Ah Te stai a mangiare La pizza E la dieta Consuma Pepperoni Quindi Devo dar fuoco Qui così Mi sembra Ci sia stata Già Bartolino Ok Va bene Me l'ha data Per Halloween Mi pare Che l'hanno fatta Regà Io mo quindi Devo andare Tipo a Parco A raccogliere I libri Di Corvina Mi sembra Aspettate Allora Usa una granata Onda d'urto E trova i libri Di ricerca Da siepi E parco Quindi si Mi tocca Andare a parco Regà Andiamo verso Parco Che vi devo dire Le luciole Le possiamo Anche Togliere Proprio Tranquillamente Andiamo a prendere Tutta una serie Di cavoli Che Sicuramente Ci potrebbero Far più comodo Allora Detto questo Qui c'era la cassa No Non c'è niente Io ho visto la cassa Questa macchina È guidabile Mi metto il ping a parco Così non ci perdiamo E let's go Ma niente Altri mini shield Mi sembra Mi sembra Siano baccate Esti quelli Sto baccato Madonna raga Era partito Era eh Non riuscivo più a fermarmi Allora Questi sicuramente ci torneranno utili Non mi fermo neanche a lutare Sento oggi danno Sempre sta canzone Top Buongiorno Non è che me ne freghi tanto Di fermarmi a lutare Però nel dubbio Sai Ma non è che la discrimina E che lo aiuta Madonna raga Cioè Usare una parola forte Come discriminare Per una cosa del genere Mi sembra un po' esagerato Discrimino Ma poi a prescindere La gente si annoia A vederlo in live Per quello non lo va Sì no Anche per quello Ragazzi io spesso e volentieri In privato Mi faccio le sfide Rista squadre A volte le faccio anche Nelle live Perché comunque So Che alcune sfide Sono troppo complicate Da fare Così per conto Mio Però Cioè da qua Oh mio dio Ma che cacchio Ha fatto La gente di domenica mattina No Lo sapevo Come No vabbè raga Non ho parole Io dico Ma sì Dai adesso ci facciamo Delle partite tranquille Di domenica mattina Ci facciamo Delle partite tranquille Da quando la domenica mattina Si beccano solo pro player Che non ti lisciano Nemmeno se sparano Dall'altra parte Della mappa Oh mio dio Ragazzi Oh mio dio Allora Guida da Durburger A pozzo Perché non me lo fa vedere Nella mappa Qual era Durburger Regà Quella che sta qui Da qui A qui Senza uscire dal veicolo Metti la nuova skin Sì ora metto la nuova skin Regà ma No dai Ma come da qui a qui Cioè regà Ma da qui a qui Devo mettere la benzina 20 volte Oh Mi sa che adesso Sì Bartolino È bannabile Credo Eh sì La benzina scade Oh Beh la game over È da fare in duo Che poi mi sa che non si può Niente più fare Che l'amico ti mette la benzina Mentre qui No regà Come Cacchio faccio Se hai le ruote nuove Basta una volta La benzina Eh tocca trovare le ruote nuove Vabbè Allora mettiamo la skin nuova E così vi faccio vedere Come la volevo Achittare Deve usare le ruote Deve mettere le ruote Se ti stanno dicendo Che 100% Con le ruote nuove Ci arrivi Eh regà Vabbè Tocca trovare Taniche di benzina Ruote nuove Un po' di cosette Ah regà Guardate un po' Che cosa le voglio mettere Allora Dov'è Che le vuoi mettere Le ucce Quelle dark No Non quelle dark Quelle bianche A trovarle Allora Queste pure ci starebbero Da dio Però secondo me Le stanno ancora meglio Quelle bianche Dove cacchio sono Quelle bianche Vabbè Se tipo scrivo ali Me le trova Eccole Regà Ah ce l'ho più Quelle Regà tra l'altro A 1500 like Devo shoppare il piccone Forza 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 Facciamo questi 1500 like Così le metto subito Il piccone Dai ragazzi Dai ragazzi Forza 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 Credo in voi Allora Come Deltaplino Le potrei mettere Qualcosa di molto carino 1500 1500 like Adesso L'andiamo A Shoppare Vabbè Le mettiamo Questo qui scuro Allora Mettiamo Il piccone Ovviamente Ragazzi Col codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato Equipa Jamel E proviamo A fare La sfida Impossibile Eh ultimamente Hanno fatto Dei casini Tra virgolette Per sta cosa A Bartolino Quindi non lo so Dovresti vedere Se c'è qualcuno Che lo fa Usare Gli emulatori Per giocare Tipo Pokemon Se ha il gioco Però fisico Se si può fare Se ha il gioco Ma non la console Non ne ho più Palle idea Non l'hai equipaggiato Come non l'hai equipaggiato Regà Eccolo Regà Ho messo equipaggio Ma come ho messo riscatta Ma potenzialmente Bartolino Quello credo Allora io credo Che magari Non si possa fare Ma non ti dicono niente Se lo fai Probabilmente Io penso Quelli comunque Sono tutti emulatori Anche perché Tu considera che Io so di che cosa Stai parlando Cioè ho visto Anche chi li porta Il Game Boy Advance Che era quello Dei giochi Che attualmente Sta portando La maggior parte La gente Perché stanno portando Foglie E rosso fuoco E Giocano palesemente Da emulatori Perché i Game Boy Da cui si giocava Per quei giochi Non hanno proprio L'attacco per essere registrati Che io sappia Che io sappia Non mi sembra proprio Io penso si possa fare Però perché ci sono Quei canali No Che lo fanno Anche perché Non hai altro modo Per portarli online Io credo che Pokémon stessa Non è che sta lì A romperti le scatole Se è l'unico modo Che tu hai No 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 Non era Pokémon A rompere le scatole Erano i produttori Delle console E che cacchio vogliono I produttori delle console Cioè Se è l'unico modo Che ho per giocarci E portarlo in live Poi certo Lì sta tutto Nello streamer Cioè lo streamer Non deve promuovere Il metodo in cui gioca Cioè lui deve dire Raga mi raccomando Supportiamo I prodotti originali Non giocate anche voi Dagli emulatori Perché raga Qual è il problema Degli emulatori? Ma credo che tutto Sia nato per gli emulatori Non per il fatto dei giochi vecchi Sì no Anche perché Cioè i giochi vecchi Non hai veramente Più un metodo Per giocare Anche perché Non credo siano Proprio più in commercio Cioè io penso Che se una cosa Non è più in commercio Anzi se qualcuno Sta lì e cerca i metodi Per giocarci Ne dovresti anche Essere fiero Però comunque A parte quello Il discorso è che Il problema degli emulatori Raga È lo stesso problema Della pirateria Per quando voi Seguite le serie tv O gli anime O i film O qualsiasi cosa In siti Piratati Cioè Voi in quel In quel modo Ok vi state guardando Il film Ma non lo state supportando In nessun modo Ragazzi Cioè è come se Loro avessero lavorato Gratuitamente Tra virgolette E non è una cosa Bella Ok Anzi Niente Era comunque Tutto Tutta la lobby qui Tra l'altro Sto cacchio di spot Me l'hanno rovinato Da quando hanno messo Lo spasso Perché ci viene Mezza lobby Uno sta già sparando Regà Ma la domenica mattina Ci giocano i mostri Su sto gioco Ma che hanno fatto Ma piatevi una camomilla Il sabato sera Ma che cacchio Hanno fatto Tutti quanti Sì Quello già pia la macchina Fratelli Non ci arrivi Tanto se parti così Mi hanno detto Dalla chat Buffone Che hanno detto Che se la fai 80-100% Ci dovresti arrivare Anche senza ruota Eh ho capito Regà Eh sì Mi hanno già fregato Tutte Questi sono già venuti Tutti qua Per fare la sfida Mi hanno rubato Proprio tutto Regà Però mi puzza Di che Che ha beccato Tutta sta gente A fare la sfida No no Ma che ne hai visto Pure prima Tutti a fare la sfida Delle luciole La sfida Delle luciole Addirittura Della settimana scorsa Stavano dicendo Prima Quindi Regà Io non trovo Do cacchio Le posso trovare Delle ruote Se spacco Quelle ruote Il problema È che M'hanno finito Le macchine Regà Tutti Tranne Regà Ma non te le lascia Le ruote Karen Anche dice Che tutte le volte Che ha provato Non ci ha trovato Nessuno Questa Vi puzza Di gente Che sta a venire A rompere Le scade No Banalmente Sai Adesso Dell'esistenza Delle sfide Si è messa A farla Ripto Vai col camion Vai col camion Eh Sì Lo so Vado col camion Regà Però il problema È che Quanta benzina C'avrà Adesso mi devo trovare Una tanica Eh 39% Regà Qua non arrivo Manco dietro Ne trova via Qui Qua dove stanno Le taniche Dai Non penso Che non ci siano Le taniche Oddio Se no pure questo Quanto c'ha 29% Ebbene State a ben giro Regà Qua le taniche Dove cacchio Le posso trovare Però Dove sono le taniche Qua Eccola Eccola amore Dove Cirati sulle scatole A destra Ok Dalla mia prospettiva Giustamente Era stato Era stato Prima Perdo Amore Allora Qui Eh regà Quindi che faccio Camion o questo Io direi questo Però raga Io direi questo qui Lo guido più facile Eh Io direi questo qui Ragazzi Eh Questo 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 Eh Io direi questo qui Raga Raga Speriamo bene Tanto sta a partire pure la safe Quindi Con la musica Non me la faccio Amma mia Noi vicino ai pallet Ce n'era anche una Di tanke Ma è una vera e propria rottura di scatole sta missione Ragazzi Ah Karen Ecco Vedi se non riesce L'ho dato un giusto consiglio Cioè Senza scendere Ma dal furgone Semplicemente Ti posto Ti metti sul retro Rimetti la benzina E ti entri Dovrebbe contare Dicevano Perché comunque Non sei mai sceso dal video Ok Ah no Io in questo momento Non ho paura Del Della benzina Perché se la gente C'è riuscita Io sto andando Dritto per dritto No Però devo passare In mezzo alla cuglia Regà Ma come cacchio faccio Sì Vabbè Comunque Con le sfide stanno a sgravare proprio Qualcune sfide stanno sgravando proprio Ragazzi No frate No frate Non te stai regolando No frate Non te stai regolando No 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 Regà Ma come faccio Ma Come pretende La gente Che io arrivo Da una parte All'altra Della mappa Senza beccarmi Nessuno Che mi spara Poi tutti i pro player Regà Io non lo so Cioè io non lo so La domenica mattina Questi qua Che cacchio Sanna Fa Ma dormite un po' Oh Ma come faccio Regà Ma come faccio Giustamente Andrea diceva Che non è a tempo Quindi potresti anche Fa tutto il giro Sì ma tutto il giro Come faccio Dopo la Veramente la benzina Non mi basta Eh sarebbe da provare Il metodo Che ti hanno detto prima Dai regà Però così è imbarazzante Cioè così è veramente Imbarazzante In Rista Squadre Prende macchine Non ci stanno Regà Ci stanno pochissime macchine In Rista Squadre Cioè è veramente Veramente Imbarazzante La domenica mattina Regà Non gioco più Cioè non ci gioco più La domenica mattina Penso non ho mai beccato Così tanti pro player Come l'ho beccato adesso Cioè Mai Mai proprio Mai 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 proprio Ragazzi Devi prendere la strada Su Borghi Devi prendere la strada Su Borghi Da qui Sì Vabbè Che devo fare Tutto sto giro Ma regà Ma non mi conviene No no Sì che devo fare Tutto sto giro Che tra l'altro Devo passare Mezza a venti città Come faccio Ti consumo a metà carico Di benzina Se stai un po' più largo Con il piano La fai tranquillo Vediamo Speriamo Andrea Ciao Ire Ciao Ire Oh regà Comunque è imbarazzante È veramente imbarazzante Io Sono sempre Più dell'idea Che Fortnite Per rendere di nuovo Il gioco godibile Deba fare In ogni lobby 50 player E 50 bot Perché la gente Non si diverte più Su sto gioco La gente non ci si diverte più Perché ci stanno Troppi pro player Cioè Come ti giri Ti giri C'è qualcuno Che te lasera Ciao Cioè così Non è giocabile Regà Cioè Ogni avversario Che ho beccato Ho preso E mi ha laserato Prendemi laser Prendemi laser Prendemi laser Non Si capirà Emo quasi Vabbè Eppure il primo spot Vabbè Regà Trovarle le impulsi A parte il fatto Che se trovo Le impulsi Se trovassi Le impulsi Le utilizzerei Per fare L'altra Trasmissione Però regà Cioè così è improponibile Cioè così è improponibile Ma come fai a mettere Una sfida del genere Cioè devi essere proprio Cioè Adori il dolore altrui Cioè proprio Adori 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 Vedere gli altri Sbroccare Ma che problemi avete Ma lamentarsi di una sfida Può essere La voglia Cioè Fatergli schifo il gioco Che vuol dire Non ti piace Perché ci giochi Per una sfida Che frase è Vabbè Ma è evidente Che chi abbia scritto Nose del genere Ha un massimo Di cinque anni Ma No vabbè regà Sta sfida non la faccio Cioè sta sfida Non la faccio proprio Perché mi rifiuto Cioè spero di arrivare A sbloccare Corvina Senza fare sta sfida Perché Tanto è la tre su tre Quindi Questa è una su quattro Ah quante sfide mi mancano No perché Se posso sbloccarla Senza farla Regà io questa qui Mi rifiuto proprio Di farla Mi rifiuto proprio Di farla Cioè devo partire Da un punto Dove ci viene Un sacco di gente Perché c'è lo spasso viola Prendere la macchina Essere certo Di avere il cento per cento Di benzina Le ruote E tutto Per arrivare Dall'altra parte Della mappa Dove al mille per mille Mi becco qualcun altro Ma che davvero Allora Mi mancano quattro sfide Io mi faccio questa Spero Pregando il signore Di trovare Un'onda d'urto E mi faccio queste qua Vabbè Allora vediamo qual è quella più safe Tra parco e siepi E mi faccio questa Giustamente Andre ti suggerisce Di farle in arena Così hai meno sniper Meno gente che la va qua Eh in arena si Però il problema è che In arena Vabbè dai si dai Proviamo a farle in arena Proviamo a farle in arena Regà Regà il risa squadre O tutte le macchine Sono ganasciate Non mi ricordo Cioè regà Il risa squadre Da quello che ricordo io Le macchine Sono quasi tutte Ganasciate Se non tutte proprio Eh lo so Che in arena A Flegnameria Viene un po' di gente Però Tanto comunque Cioè comunque Per fare sta sfida Devi avere fortuna Cioè per fare sta sfida Devi avere fortuna Perché Io adesso Se ne avessi beccato questo O se non mi avesse laserato Io ce l'avevo fatta Eh perché Superata la guglia Non ci sono più Tanti spot Dove effettivamente Puoi beccare un avversario Che cacchio ha fatto Il pc Che sta ragionando C'è solo fortanetta aperto L'altro pc Vabbè E poi se li metti le ruote In teoria Gli togli Le macchine Sì capirai Un altro taglio Che passa qua sopra Vabbè Ma qua il gioco Che mo' sta affa apposta Dai Cioè qua è palesemente Il gioco Me lo sta facendo apposta A trovarla La Lambo Con le nuove ruote Sarebbe Sì più facile Ma a trovarla A trovarla Comunque Bartolino Prima ti chiedevo Se vuoi Mo' vediamo Di sicuro Per sta sfida In realtà No Possibilmente Mi servirà Aiuto A cercare Le granate A onda d'urto Perché non Non si trovano Vabbè Allora Allora Ci sono parecchie Macchine Lì però Non vedo La tanica Di benzina La tanica Io prima L'ho vista Tra i pallet Eh Eh dai Vai a letto Vai Allora Ah no Ma è stato Sto infamotto Ecco Ecco la tanica Di benzina Ecco la ruota Sperà nessuno Mi pusci Ah Buongiorno Simona Allora Non mi sembra Ci siano Lamborghini Io mi rimetto Il ping Boh Raga Io comunque Andrei tipo Con questo O con questa O con questa No questa è ganasciata Vabbè io andrei comunque Con questa Raga Forse è meglio Senza ruote No come meglio Senza ruote Raga No Non scherziamo Di sicuro Servono le ruote Di sicuro Servono le ruote Raga Cioè La ruota Ma è più veloce Quindi se devi Devi dare qualcuno La destina Che va di più E decisamente No Il problema è Allora aspettate Devo tagliare Sì Devo passare Per soborghi Però Su questo Siamo d'accordo Senza prendere Proprio la strada Principale Però devo passare Per soborghi Dunque raga Pazzesco Sto beccando Gente più scarsa In arena Cioè Ma di che stiamo A parlare Io devo capire Perché i pro player Giocano in singolo Cioè devo capire Perché i pro player Stanno iniziando A giocare sempre Di più Nelle pubbliche Ma no Non si divertono A bullizzare Perché tanto Beccano altri pro player Cioè ormai Non lo so Raga che cacchio È successo Cioè O veramente Ormai c'è talmente Poca gente Che gioca a fortnite Che quindi Becchi solo i pro O se no Non si spiega Vabbè Trasciando il fatto Che siamo a fine stagione E io sto ancora A neanche 4000 punti Quindi Effettivamente Potrebbe anche essere Quello Il motivo Eh Ok Abbiamo superato Da poco La metà Tra poco Arriva la parte Difficile Perché se qualcuno È sceso lì No Allora Qui dovrei provare Ad evitare No Non posso scendere La macchina Volevo prendere Il pompa blu Ma non posso Ciao Belli polletti Ah Passo Tipo a largo Tanto di benzina Ne abbiamo Cioè Tipo qua Se mi avesse Detto male Uno di cui due Stava Faitando Lì Ma avrebbe Sparato Oh Godo Come un riccio Godo Come un riccio Ora Datemi Delle impulsi Per favore Datemi Delle impulsi Per favore Please Ve lo chiedo Por favore Stava a fare Per sangue Stava a muovere da solo Alleluia Raga Grazie Andrè Mamma mia Ormai Ormai le sfide Docca falle in arena Ormai le sfide Docca falle in arena Raga Grazie per i consigli Ma ormai le sfide Docca falle in arena Ah Giusto Non ci sono in arena Ah oddio Non ci sono in arena È vero C'avete ragione Eh Niente Quale sfida posso fare Allora Ah quella Eh no Stavamo tutte troppo lontane Vabbè Dai divertiamoci in arena Che almeno troviamo Gente scarsa Che detta così Fa già ridere Ma dai Raga No no Ma infatti sto scherzando Ma non la vincerò mai Non la vincerò tanto Però Di sicuro Già quei primi due Con cui ho fightato Erano più scarsi Della Della maggior parte Quelli che stavo a beccare Fino a poco fa Con Con Le solo In pubblica Questo è poco Ma è sicuro Raga Questo è poco Ma è sicuro Allora In realtà In realtà Non siamo messi Neanche così Male Raga In realtà Non siamo messi Neanche così Male Pomina Me lo dai Un bello Spasso No Cento di metallo Guarda Va pure bene Però Insomma Avrei preferito Di meglio Io ho paura Hai paura? Quartolino Perché? Ha detto che ha 200 punti Sta arrivando Allora Mi mancherebbe un peperone Per fare l'altra No No mi sono sbagliato Sono lì Ti voglio Bene dell'anima In realtà Io Ti voglio tanto Bene Ti voglio tanto Bene Mi voglio Benissimo Non lo volevo Fare la picconata In faccia Non te la volevo Dare Eh rega Dovanna così Dovanna così Fratelli Eh Eh raga Ha lasciato Una modalità Prestazione Attiva Per questo Si vedono strane Ho lasciato La modalità De pro Attiva Ah ecco perché Sto a trovare tutti i pro player Perché ho la modalità De pro Giusto Me lo so Meritato Allora Dietro Ci sono Dei polli In giro C'è qualche Camper Sì C'è qualcuno Questa 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 Godo come un riccio Ok 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 We are ready For another fight Si si è buggato il foglio della costruzione Però è un bug che c'è da parecchio eh C'è da parecchio raga E' un tipo di bug che non riescono a risolvere stranamente eh Uh buona Bona bonissima Guarda l'improvviso sono diventati tutti Quello che ho ucciso Non vi conviene tra l'altro diventare Quello che ho ucciso Vi bannano per lo snipe L'ama a 103 No raga c'è questo sta C'è sta Era rimasto a due di vita eh Eh raga dell'ama mo Aspettate un attimo Dell'ama mo Aspettate un attimo Ce la ragioniamo eh Io ci voglio 20 kill Ma minimo dai Minimo 20 kill Si fanno Eh raga devo andare in safe Mosto l'ama Ma vi posso dire ma chi se ne frega dell'ama Ce sono full Ce sono anche Ma stai scherzando Gigi perché camper in arena Ecco perché camper in arena Gigi perché camper in arena Tra l'altro come sono arrivato 28esimo Ah quindi la gente camper ancora 3000 punti Nonostante sia finita la stagione Praticamente Oh mio dio Ah vi giuro raga Non farò mai più live di domenica mattina Allora 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 Detto questo Quella sfida maledetta l'abbiamo fatta Mettiamo un attimino normale Se no le sfide non ce le fa vedere Nuovi incarichi E quindi solo sti due me sono rimasti Trova libri di ricerca e sievi d'agrifoglio Il problema raga è che Allora Alcuni libri di parco L'ho presi già E alcuni libri di sievi L'ho presi Bisogna un attimino capire Quali me mancano Comunque Quante sfide me mancano Mi sa Tre adesso no Sì tre Va bene Sì Ero full Ero full Dai raga allucinante Eh la season Finisce a inizio giugno Quindi praticamente mancano Tipo tre settimane Sì spike Sì alcuni L'ho presi nei video Ma non solo quello Anche altri Buongiorno Loris E' vero E' vero E' vero Andrei potremmo fare le domeniche in cucina Oh my gosh Ah noi dovremmo ordinare Amore Che ore sono? Mezzo giorno Tra l'altro è quasi un'ora precisa E siamo in live Abbiamo superato i 2000 like Quindi devo andare a shoppare L'altro deltaplano Che mi mancava Mi raccomando ragazzuoli Continuate a lasciare un bel mi piace Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Non so cosa ci possiamo ordinare Però Dai è cascato qualcosa Con la centrifuga della lavatrice Vado a vedere È cascato qualcosa ragazzi Se è stato un mostro Vi abbiamo voluto bene Se è stato un mostro A fare quel rumore Nell'altra stanza Vi abbiamo voluto bene Sì no I fumetti sono un casino I fumetti sono un casino Allora Io direi di provare Magari un sepito agrifoglio Cerchiamo in tutte le case Sperando di essere anche in safe Lo sai che non mi fa impazzire Quel panino Proxy Non mi fa impazzire Lo smuocchi No Uzzo Che fai Che lo puniamo subito Che era? Erano caduti i pannetti Quelli dell'asciugatrice Nooo Poveri pannetti Con le vibrazioni appunto Della lavatrice La città Una bella pizza Ma regà La pizza L'abbiamo mangiata Ieri sera E l'altro ieri sera Cioè Ieri sera erano le avanti Esatto L'altro ieri Perché c'era una margherita In omaggio Mamma aveva lasciato un po' Di pizza Che ci ha dato E quindi abbiamo Mangiato un po' Così Niente regà Tutta la lobby a siepi Bene Ottimo Devo dire Che è ottima Come cosa Un pannetti Valentino Hai leggermente rotto Le scatole Ti sarei fatto mettere In time out 20 volte Date C'è sti libri Date C'è sti libri Perché Ieri Che è successo Vantaggio Eh perché Uzzo dice Ieri Lo sta bullizzando Eh Eh vabbè Voi fate queste cose Mentre io sono di là Devo trovare Sti librotti Bisogna vedere Chi ha ragione Dei due Tu stai proprio Dentro Ah si Stai proprio lì A fare l'infamotto Eh Tra l'altro La lavatrice Sembra che stia Per prendere il volo Si sente Tocca regolarle I piedini Si muove Troppo Bene Dai vabbè Ma sto Mi tocca Fa pure sta sfida In arena Il problema è che Però in arena Non mi trovo Le onda d'urto Ah no Dobbiamo ordinare Però prima Che ci ordiniamo Non lo so Sempre non lo so Lei Messicano Eh Lo sai perché Non lo so Allora Dai si Proviamo messicano Tra l'altro Non l'abbiamo Ancora ordinato Qui Quindi tocca Vedere se ci arriva Qua Ah ma io Ho la cosa Della spedizione Gratis Su globo Eh Ti ricordo Eh Vedi tu Allora Prova a vedere Se sta lì Vedi tu Ah regà Intanto andiamoci A shoppare Il deltaplano Ciclone Va bene Devo ricordare Come si chiama Oddio Bartolino Eh Allora No no Questo qua Non lo devo Equipaggiare Eh cosa amore Devi fa te Non c'è Sì sì Ho capito Ho capito E non mi rispondi Che ne so io Se hai capito Allora Eh a trovarlo Come cacchio si chiama Mi dimentico sempre Come cavolo si chiama Sex Max Ah da quella Ok E' quell'altro Allora Non era quello Solito Allora Noi ci prendiamo Un bel panino Mi sa Hamburger Questo è il solito No no era un altro No no era un altro però Eh pomodoro Insalata salsa barbecue Salsa thousand island No Ciccio burger Pomodoro Insalata salsa barbecue E' uguale a quello di prima Quello è bullismo Ma perché si chiamano tutti Ah regà vi giuro Questo è Cheeseburger Pomodoro Insalata salsa barbecue Sta salsa thousand island La mettono ovunque Ci sono i tacos vero Non lo so amore Sto guardando i panini per adesso Allora Tartufo e provola Ma che cacchio di roba C'hanno questi oh So panini gourmet Bacon cheeseburger doppio Doppio hamburger di manzo Doppio cheddar Doppio bacon Insalata pomodoro Salsa barbecue Salsa thousand island La mettono ovunque Ciao giulì Pazzisco Ciao giulì Buongiorno Raga non ha le costruzioni Buggate Ha la modalità prestazioni Che si è dimenticato Di togliere dopo il video Allora Mi piglio questo Formaggio cheddar Salvia Bacon croccante Insalata Vabbè Piammose questo E cacchio di Non ci voglio niente extra E lo voglio medio Di cottura Ora C'è qualcosa Che mi posso prendere Tipo Delle patatine Voglio delle patatine Eccole Ricordo che loro Fanno quelle con le erbette Buone Eh infatti Le patatine fritte Speziate Alla cipolla E pepe nero Sono quelle C'hanno solo quelle Come patatine Diverse Però mi sembra Che l'abbiamo presa L'altra volta E erano buone Però non sono Quelle che dico io Vabbè Mi prendo la salsa Rancho da mettere C'è va Tieni Io ho fatto E Eh Ma regà Mio è un macello Per fare queste due missioni Perché sono rimaste Due Mifioni Che sono Una rottura Di scatole A trovarle Ma forse Sono le patatine fritte Normali Diverse Che loro Fanno con le spetture Boh vabbè Io ho provato Quelle lì No vabbè Allora togli le mie Togli le mie E metti quelle normali A sto punto Prendimi Prendimici la salsa Ranch Eh no vabbè Ordino Cioè quelle Con la mia salsa Tanto Prendo io Quelle speciali Ok Raga rissa squadre La posso anche fare Però poi È una rottura di scatole Noiosa Noiosa rissa squadre Raga Ciao Roman Ciao Roman Nico Grazie mille Per la donazione Caro Un bacione Grazie avvero di cuore Per il supporto Bella Nico Mannaggia Ma tu l'hai messaggiata Il guacamole Sì Oddio Bartoli Non lo so Ragazzi Non le posso fare Le sfide Nei server privati Se no è ovvio Che Già Già le avrei fatte Tutte lì No Ma comunque È un altro Oh tu mi hai detto Tex-Mex È quello Oh e cambia Togli Cercalo tu Quei ristorante Che devo dire Eh mi sa che Non c'è proprio No raga Cioè guarda la gente No vabbè Dai Mi rifiuto Mi rifiuto Cioè mi rifiuto proprio No comunque Vabbè Io non ci posso Credere che È tutta gente Che mi ha sniperato Dai Cioè non ci posso Credere Non ci posso Pensare Cioè non ci posso Cioè ragazzi Ho visto Oh ma peggio Dei pinnacoli pendenti Ai bei tempi De fortnite Eh Cioè peggio Dei pinnacoli pendenti Ai tempi belli De fortnite Cioè ma che Oh Cioè Vabbè Tutte e due le città Stanno pure fuori Safe Vabbè Boh Solo che devo trovare Ste impulsi maledette Regà Non le trovo Non si trovano più Eh le sto a cercare Le impulsi Regà Ma non Eh Quelli dove Prendevamo le cose Le fanno solo Uberizzo Adesso Secondo me Ti stai a ricordare Male tuo amore No 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 Amore Sono andato a guardare I piatti e le cose E quelli Tex-Mex Video Però Sono solo Uberizzo No E ordina Tu da lì Che ti devo dire Mi raccomando Non ti sbaglia Con E allora No E allora E allora Ordina qua Scusa Che cambia Cambia che non ci sono I tas E allora Trova una soluzione Non so che ditte Ogni cosa che te sto dì Trovi un problema Eh Fai tu È l'unica cosa Che posso mangiare Che sono di mais Non si trova Regà È allucinante Da quando è uscita Sta sfida Non ho più trovato Ne impulsi Ma proprio zero Eh Cioè Ma neanche Neanche l'arco Proprio Cioè Niente 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 Cioè È proprio come a dire Ah sì sì Tanto adesso C'è la sfida Ma Togliamo l'arco Togliamo tutto Togliamo le impulsi Non lo potrete proprio più fare Vabbè Chi la tocca Giulie Ma ha scelto lei Cosa dobbiamo ordinare Non gli va bene Niente Che devo dire Non è che non mi va bene Che è colpa mia Che hanno colto il ristorante Da gestire Allora Vabbè Sì Prendiamo No prendiamo la fiocina Vabbè Che qua dobbiamo pescare I pesci Le impulsi Non si possono trovare Nelle pozze Vabbè No Dai Dammi delle impulsi Ma dai Ma ce la fai Già bannato Tranquilli Oh Ah no Mi sa che sta sotto Niente Non troverò mai nulla Zam zam No 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 Grazie a tutti. Oh! Come fa a farmi tutto sto danno? Cioè, mi stava distruggendo. Eh, lo so, regà, che mi bastano poche sfide epiche adesso per fare, però il problema è che non riesco a farle. Cioè, quello è il problema. Cioè, non riesco proprio più a farle. Sì, lo so, lo so che ho pescato alfanteria viola, ma non mi piace. Non mi gusta molto alfanteria. No, ma infatti non ho capito lui come abbia fatto a farmi tutto sto danno col tattico da così lontano. Infatti dal danno sembrava uno spas, però sentivo il rumore del tattico. Dico, oh, vabbè. Lasciatelo stare, raga. Tanto l'ho bannato. Non mi fanno il cammino e ne freddo. Quindi che hai fatto? Ho trovato un riso che teoricamente potrei mangiare. Quindi hai lasciato anche proprio il mio ordine? Sì. Quindi io mi prendo quelle normali, eh? Cioè, le patatine fritte dippers sono le mie e quelle che ho preso io le prendi tu. Sì. E comunque un altro, per questo non aveva le speziate, vedi? Dire, cioè... Ha cambiato tu. Che ha cambiato? I dati, i consegni? Sì, stava a consegniare là. No, sta arrivando a sei. Papà, si, farla consegnare qui. Vabbè, è roba piccante, eh? È roba piccante, papà. Non so quella di Luigi, ma la mia roba è piccante. No, la mia no. Allora, puoi mangiare quello di Luigi. Bella, Andrea. Allora. Ordine confermato. Oh no, lì c'erano i funghetti. Ce la farà il nostro eroe a trovare un impulsi? No. Ma se atterri da Corvina? Che ci faccio? È l'arco instabile che diventa anche quello impulsi. Non ti può... Sì, potrebbe valere. Potrebbe essere l'ultima chance che ho. Eh, tra l'altro sarebbe figo sbloccare Corvina con l'arma di Corvina. No, più che altro il problema di quella cosa è che... Dio no, poi da lì sarei vicino anche a Parco. Potrei farlo. No, vediamo. Cinghialotto. Cinghialotto. Ciao Ale. Cinghia, cinghialotto. Ciao Ale. Eh, io mi devo sbrigare. Quindi direi di salire per qua. Se non ci metto troppo... Ma c'è pochissimi materiali. Vabbè. Pazzesco. Sembra che le abbiano tolte dal gioco le impulsi, raga. Ma non sto più sentendo neanche nessuno proprio utilizzarle. Il bello è che io ieri mentre giocavo da sola che mi stava a fare sfida e me l'ha spammato un po'. Ma qui tutti sti pesci? Qualcuno si è divertito. Ma l'hanno potenziate proprio di brutto le pescate, oh. Flopper è uno, medusa è una, medusa è una, quindi rimango così. Eh no, vabbè, perché hanno potenziato le pescate. Ci sta. Sì, Ale, c'è ancora. Non banno solo io, banno anche il bot e banno anche il bot. Vabbè. Raga, mancano pochi like e 2500 mi piace. Che facciamo? Non ci arriviamo? Comunque, ragazzi, ovviamente adesso che mi arriva il cibo poi facciamo i server privati. Privati. Perché non lo sto hitando? Bene, me la so presa io la... No. E vabbè E vabbè E vabbè E vabbè E vabbè E vabbè E regà l'hanno tolte Loro hanno tolto le impulsi dal gioco praticamente E' da stamattina che non ne trovo manco mezza eh Cioè da quant'è che stiamo a giocare Neanche ieri vedi l'abbiamo trovata Neanche ieri l'abbiamo trovata Regà un'ora e mezza adesso Un'oretta avrò giocato ieri con Serena per continuare a fare le sfide In due ore e mezza Neanche mezza impulsi Grande Fortnite che toglie le armi con cui devi fare le missioni Per fare le sfide Bravo Mannaggia la misera regà La cosa bella è che Ho aperto Fortnite e dico Vabbè dai oggi faccio una live per sbloccare La skin finale Corvina Vado a vedere le sfide che ci stanno Dico ma vabbè dai quella più rognosa è quella dove Devo trovare i libri di Parco Pacifico e Siepi d'Agrifoglio Eh sì proprio quelle sono quelle più rognose Assolutamente Raga non intendeva che le hanno rimosse dal gioco Era per dire che le trovi di meno Che non le trovo Che non le trovo regà Nella cassa speciale di Parco Eh ma non è detto che le trovi Sì Vittoria l'abbiamo sbloccata Vediamo un attimino se funziona Come giustamente ha consigliato Serena Vediamo se funziona con l'arco esotico di Corvina Tra l'altro prossimamente devono arrivare i giveaway Della skin di Harley Quinn Quella nuova dei fumetti Specifico Oddio non è detto che ci sia più possibile Trovarli in questa squadra Non lo so Dovresti trovare un lama Eh 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 Ragazzi è noiosa Rista squadra Non mi va di farla Raga l'arco impulsi Deve trovarle impulsi Per farlo Quindi siamo sempre Eh esatto A meno che Non trovo direttamente L'arco impulsi Ma credo sia più raro Rispetto alle impulsi normali Ah giusto No Lara però non ha più Non ha quello rampino adesso Non ha più quello No Corvina sta ma di No ti hanno detto Quello di Lara Ma Lara non ha quello rampino adesso Eh Lara c'ha quello rampino E quindi non va bene raga No che non va bene Noi sta ma di Corvina raga Che sta qua Tra l'altro ieri ragazzi Mentre stavo facendo fare le missioni a Serena E stavo cercando di farle anch'io E Corvina una volta non è spawnata Com'è possibile? Cioè non è spawnata nel suo spot E non ha altri spot Infatti abbiamo quittato E la partita dopo stava lì Cioè non abbiamo trovato Corvina Ci ha scammato L'arco non funziona Tom mi dice Vabbè proviamo Vabbè proviamo Ormai sto qua Perché a volte non spagna Prova con l'Italia LT No l'aveva corretto il correttore Spawna voleva dire No so che eravamo i primi a scendere lì Non c'era andato nessuno Sì sì eravamo proprio i primi Stava con Beast Boy Con BB Sì ma il fatto che a volte non spawni È veramente triste Come cosa E lo so lo so che dice una granata a onda d'urto Però io ce provo Regà d'altronde una volta che sparate con l'arco Spara granate a onda d'urto Vediamo No è che... No è che... eh raga mo vediamo perchè in realtà dopo che abbiamo detto quest'idea alcuni hanno detto di averla fatta con te quindi vedremo il problema è che come al solito non te dai colpi quindi io adesso per fare questa cosa devo trovare i colpi dell'arco ma perchè non ti danno anche i colpi quando ti danno le cose o quantomeno ti desse la possibilità di comprarle eh capito cioè dai raga è imbarazzante sta cosa cioè io ora non posso usare l'arco perchè non trovo dei colpi a meno che il primo non è già quello no quello fiammeggiante è il primo ovviamente oh vabbè grazie grazie a tutti il tasto per i balletti è quello per ringraziare l'autista siamo già a 62 what? ce la faremo il tasto dipende da dove l'avete impostato i balletti non è sempre lo stesso eh dipende si il tasto per il balletto adesso troverai le impulsi ma magari cioè io comunque spero di trovare le impulsi perchè anch'io sono abbastanza dell'idea che potrebbe non funzionare l'arco però io nel dubbio ci sto provando comunque il problema è che devo trovare le frecce perchè se no non posso far ruotare le specialità della casa qui niente raga non trovo mi sembra che me lo sta a fare apposta il gioco me lo sta facendo decisamente apposta oh e che cavolo e beh Bartolino il potere dello gnomo persiste a prescindere amore non hai preso le altre frecce di quell'arco blu ah oddio è vero dov'era? eccolo ricorda che io vedo il ritardo quindi si si ah comunque delle impulsi neanche l'ombra oh madonna le ho chiamate vabbè ora giusto per la giusto per vedere direi di provare comunque alleluia raga cioè veramente era imbarazzante quella situazione stava diventando qualcosa di imbarazzante va bene ah bene questi non si sono spaccati ah davvero le ingranaggi per fare quel cazzo ok arco meccanico esplosivo ma non diventa mai quello impulsi l'arco raga sa che stai avendo testiga l'arco chiammeggiante cioè raga non mi stava uscendo quella onda d'urto cioè parliamone parliamone no vabbè queste sfide non sanno proprio da fare oggi eh non sanno proprio da fa' c'era dei libri è buggata no come è buggata pare di si e quindi io non posso andare avanti ti manca solo quella? eh praticamente si questa e vedi alcuni gliel'ha completata dopo vediamo però comunque appunto se non ve la completa al fine ce l'hanno buggata no raga speriamo di no perché sennò è un problema ragazzi non è buggata per tutti altrimenti non sarebbe un bug vediamo se ce la dà ce la dà raga anche con l'arco eeeh vabbè raga niente non si api e parco stanno tutte due fuori sei quindi giochiamcela però il nostro caro porta è schiuto ci facciamo bene questa schiuta è la numero mille di porta la numero mille in totale? si ancora non erano usciti mille skin oh guarda pensavo fosse riuscire molto il puschino dai come carburante su dove è che è volato? comunque ci sta che è la millesima scusate tu ne hai ho fatto mi ha inzù? non lo so non te ne manco lo posso c'è la cassa rara c'è la cassa rara eh lo so regà ma dovevo correre in safe anzi mo puscio qualcuno anzi no che puscio qualcuno vado direttamente in safe me ne vado dritto dritto in safe me ne vado dritto in safe ah no però qui dovrei tipo tagliare dove cacchio devo tagliare mi sa ma tra quanto non si giù ne un quarto mero sai che il mistico arriva sempre tardi che neanche suo padre faceva emily faceva che pure il contenuto dicava fame grande chicco mi ha preso al volo con l'arco regà mi ha preso al volo con l'arco ragazzi ma di che stiamo a parlare mi ha preso mi ha preso al volo con l'arco ma mi è stata a prendere in giro ancora no gabri perché ci stiamo concentrando a portare tutto di qua ancora abbiamo delle cose a casa dei suoi regà mi ha preso al volo quello si ha fatto il trick ha fatto no vabbè ancora non si era portato neanche tutta la postazione gabri per farti capire ha finito ieri mi sa regà guardate o ancora forse gli manca pure roba ma che cazzo ma non c'ho parole fai lo spazzo faccio lo spazzo e tu puoi fare lo spazzo non me lo posso fare lo spazzo regà ce n'ho cinque oh ora ce n'ho sei la matematica ragazzi la matematica ho portato il camion no perché ma che è sta musica ma il camion è un altro bug comunque c'è la radio che continua a sentire mamma mia regà ma di che stiamo a parlare oh no ci siamo uccisi a vicenda no ma che nome no non l'ho neanche visto ma com'è possibile che ci siamo uccisi a vicenda regà fat kid no raga ma di che stiamo parlando ci siamo uccisi a vicenda oh sopravvivi alle fasi della tempesta ok roxy ti dice che copri con la gamma ingranaggi questa roba qua ah ok e allora regà però non me lo scrivete che posso fare lo spazio se nemmeno sapete quanti ne ho no ma rarissimamente capita comunque di queste qua ci sono due fasi se mi mancano due sfide eh top allora mi faccio quelle mi sa eh regà facciamo una cosa facciamoci una partita in arena come vecchi tempi facciamoci una partita in arena come vecchi tempi perché c'è una strega nuova da clans su royale c'era una nuova strega Bartolino se dici royale si vabbè quella dei maialotti no che si vedeva sei ah no no erano le ossa raga si si ma non è troppo nuova c'è da un paio di mesetti in realtà pensavo chiedessi di clans conoscendo di Bartolino no no su clans no ultimamente stanno aggiungendo solo super quindi allora facciamoci una partita tipo come vecchi tempi anche perché dobbiamo sopravvivere a tot si sofia se raggiungi una divisione non ti scende cioè vuoi perdere punti ma resti in quella divisione no no una certa scendi o come no no la divisione rimane quella scendi di punti ma la divisione rimane quella non te la cambia non sapevo che scendevi però a un certo punto fanno danne e ribildano mentre ti attaccano ribildano cioè tipo se una struttura vicina alle capanne viene hittata te la ribildano c'è un po' di fortnite in questo bug sono d'accordo wolf ogni tanto c'è anch'io che anche io dobbiamo ancora fare la championship ma quando scade quando scade no regà sono sceso troppo basso eh si tocca farla semmai dopo la famo che sono sceso un sacco basso regà devo sopravvivere alle fasi della tempesta la noti la differenza tra 144 e 360 ve posso dire veramente poco tra 144 hertz o fps e 360 poca 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 minimo allora se siete dei pro player e volete competere magari ve posso pure dire ok fatelo ma solo se ne avete la possibilità altrimenti no cioè non ne vale proprio la pena non ne vale il mio del monitor a 360 hertz regà è stato uno sfizio ma semplicemente perché ho sempre giocato con 144 hertz fps e non ho mai avuto la possibilità di alzarli perché non avevo mai avuto i monitor stra mega fighi potenti e allora mi sono voluto togliere sto sfizio ma altrimenti non ne vale assolutamente la pena ragazzi cioè ribadisco magari per un pro player è diverso magari per un pro player si nota di più però detto così proprio a crudo no si Antonio ma ormai ero uscito il 360 e voleva quello per fare la spesa per fare la spesa la voleva fare sul 360 però calcolate che fino ai 160 160 170 la differenza si nota parecchio cioè se dovete passare da 60 a 100 fps ne vale tantissimo la pena se dovete passare da 100 a 120 ne vale tantissimo la pena diciamo che fino a 140 150 ogni 10 15 hertz che alzate ne vale la pena assolutamente assolutamente superati 160 170 potrebbe iniziare a non valerne più la pena io l'ho sconchita tantissimo la differenza come se ho passato da 60 a 144 sì sì no da 60 a 194 passano le maree proprio no dai però non mi puoi far trovare gli scildini qui così mi le devi far trovare prima monello monello sei un monello dipende che xbox su the wolf ma con quelle nuove il massimo è 120 con le vecchie mi sono 60 più di 60 sì sì no era 60 eh in che senso ancora sì sì così a caso in arena dovrebbero aver aggiunto il supporto 120 di recente Sofia sì 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 le hanno le dovrebbero aver messe prossima settimana raga silenzio usciranno dei video anche sulla mia di ps5 che mo a breve la dovremmo attaccare finalmente così facciamo tutte le prove del caso ah qua c'è una doppia doppia pozza lol raga il flopper vengancia l'abbiamo trovato proprio noi dovremmo mettere l'occhio aspettate 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 ok dai il balzo flopper devo ringrazzare l'occhio incredibile dai risca ok ed usa dai 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 ok allora no scelbi serve solo a registrarli cosa obs ah si e a stream no vabbè lui diceva si possono editare i video ah ok no per registrarli sopravviviamo sopravviviamo alle fasi della tempesta ce la faremo ce la faremo hashtag ce la faremo oppure no tocca arrivare in endgame regà per fare tanto sta missione perché poi dopo in endgame ovviamente va molto più avanti la va molto più veloce la sfida certo 60 da mobile e tanta roba perché molti telefoni ne fanno 30 60 mobile e tanta tanta roba il pesce mida sì il pesce mida penso l'abbiano tolto penso fosse un easter egg della terza stagione e basta l'hanno messo lì tanto per ma noi rivolgiamo mida non il pesce mida bra no 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 regà cioè non voglio rotture di scatole no dai frate ma ce l'ha com'è ragazzi obs non serve per editare solo per registrare e fare live no frate dai però non puoi essere così infame questo sarà full di tutto vodo vodo come un riccio vodo come un riccio buona continuazione ma dai frate perché ce l'hai con me ti ha sparato uno dall'altra pa oh mio dio missione 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 siamo 5 su 8 ecco ecco è normale è normale perché non hanno più il supporto diretto come una volta per mobile è un casino raga la situazione mobile è un po' particolare verso fine verso fine verso fine mese dovremmo avere delle risposte per quanto riguarda apple contro epic games e vediamo un attino quello che succede la situazione è abbastanza ambigua oh no raga c'è uno lì è proprio la mia taglia vabbè no lo lascio stare c'è proprio via 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 tanto dobbiamo aspettare che si chiudano i cerchi della tempesta eh gabri chi ce l'ha ho visto che il primo lo vende pure a 50 euro puoi vendere 3 euro di fumetto eh sì sì no infatti ho visto è allucinante allora di programmi per editare i video ce ne sono raga ce ne sono parecchi certo quelli gratuiti sono sempre un po' particolari però ci stanno quelli più famosi per windows sono sicuramente sony vegas eh ad hoc premier che però è già un po' più professional altra robetta ehm filmora filmora c'è e filmora c'è anche sul mac per mac c'è iMovie che è quello gratis che ti danno quando compri il mac che però è abbastanza standard non ti fa fare molte cose però è molto intuitivo e facile e poi c'è final cut che è quello che utilizzo io che è sempre solo per mac ed è tanta roba no raga non è la versione premium del primo fumetto hanno annunciato che poi faranno uscire tipo un fumetto che li racchiude tutti a sei e tutti a sei i codici ma dopo che sono usciti tutti comunque raga io per sta live vorrei arrivare almeno a 3000 mi piace forza ragazzuali con i 3000 like forza con i mi piace dai ragazzuali io credo in voi io credo in voi ok l'ordine è rimasto alle 13 e un quarto speriamo raga che effettivamente consegnino alle 13 e un quarto adesso è salito ma tu stai a sparare è matto o c'è tipo una skybase che non ho via ah tipo se stanno a sparare da così a così bene si capri anche per me è più bello tutto separato però hanno annunciato che vogliono fare questo mega fumetto che li racchiude tutti a sei questo mega fumetto si stanno continuando a sparare per di qua ah no gli sta sparando ai lupo ai lupi sta sparando allora io devo sopravvivere ad altri 4 cerchi della tempesta sinceramente se in questa partita riesco a farne 3-4 godo vedremo però per il momento l'hanno annunciato solo americano non so se lo fanno solo in america o in tutto il mondo poi questo qui il fumettone dai chiuditi chiuditi gabri grazie mille per la donazione caro un bacione anche noi ti vogliamo tanto bene grazie mille gabri grazie per il supporto anche qui scedo alcune edicole ne avevano uno glielo hanno consegnato solo uno si è allucinante si comunque sto a camperare perché sto a fare la missione di resistere i cerchi della tempesta e dato che mi pare un po' inopportuno camperare nelle singole normali sto in arena semplicemente per questo si se ogni tanto arriva gabri che fa il monellaccio tipo robbie rega dei punti non me ne frega nulla quindi quindicesima posizione sedicesima eccetera me ne frega nulla però deve chiudersi sto cerchio della tempesta però tanto dopo di questo dovrebbero essere tutte abbastanza rapide le fasi della tempesta robbie non è paragonabile eh vabbè gabri però però allora vediamo un attimo eh dai che si sta chiudendo vediamo dov'è la prossima safe niente mi tocca muovere eh rega eh ragazzi miei purtroppo ora è un po' particolare la situazione perché perché questo qui in realtà mi sembra abbastanza camperino quindi possibilmente se mi vede tra l'altro è anche la mia taglia tanto per dire è normale ragazzi gli oggetti che costano meno ha provato a sparare nel cespuglio rega cioè pensate che ho alcuni pack voli lì creatore ho preso un botto di roba a 500 600 vbucks mamma mia anche una cosa a 300 mi dà una skin rega non ho capito se mi ha visto e quindi ha provato a spararmi oppure semplicemente ha provato a sparare al cespuglio per vedere se ci fosse qualcuno forse è più la seconda stiamo dunque spingiamo un attimino il condizionatore che sta facendo veramente freddo è in più allora si sarà mosso non lo vedo più saltellare si si sta muovendo più di 60 non se ne possono fare si è il massimo se non scendi vuol dire che è gutta che tu è bellissima si e da ragazza dico che ha un bel dia aia mui caliente di che ma mui caliente di che maledetto no niente solo due fasi mamma mia rega pensavo fosse più rapida ma invece ci mettono un sacco a chiudersi solo due tempeste si sono chiuse maledizione quante me ne mancano due no regato canale a fa quelle là de parco pacifico e de quell'art si è niente io mi devo beccare sempre la prima la serata non ce la faccio a farmi un fight intero dove lo inizio full vita mannaggia mannaggia la miseria non ce la faccio maledetto maledetto questi maledetti tra l'altro raga ancora non abbiamo raggiunto i 225 possibile no siamo a 224 vabbè però credo che in giornata riusciamo a sbloccare anche quello lì anche l'assassina della guglia dorata raga riusciremo a prendere penso io adesso regà andrei a parco pacifico perché secondo me la maggior parte dei libricini mi mancano di parco vediamo allora no no ma infatti non è che cioè non è che ho detto che è colpa di chissà chi o è sfiga ma lo so lo so che io faccio un sacco di errori durante i fight ma perché io principalmente soprattutto quando devo fare le sfide non è che gioco così tanto concentrato non non ce la faccio proprio cioè io sono una persona con gravi cali di concentrazione purtroppo no stai scherzando tu stai scherzando tu stai scherzando proprio tu stai scherzando proprio cioè tu te li sei meritati tutti sti balletti toxic ma proprio tutti dal primo all'ultimo te li sei meritati no no l'ha ancora riscattato il codice del problema questo tutte proprio se le è meritate tutte ragazzi quando il lama lo vedete dovete dire dove altrimenti vi ignoriamo no ma che poi non è che vi ignoriamo perché siamo cattivi perché trollano spesso a parte trollano ma poi cioè dovete dire dove perché altrimenti mi scrivete cioè un lama ok dove i libri a parco sono nella casa verde quella bianca verde quella bianca in cui la piccola quella piccola ho capito quale ho capito quale intende perché questo mi puzza molto di sniper perché questo è venuto diretto sulla mia casa maledetto che non sei altro sì sì ma una parco ce n'ho cinque regà quindi per forza ne ho preso una parco anche tre eh non è te ah vabbè mannaggia tra l'altro qui vediamo come è messo il cibo ma mi sa che no il rider non è ancora partito dal ristorante rip rip regà mancano meno di 200 like e 3000 mi piace che facciamo non ci arriviamo dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi io credo in voi e nei vostri like no comunque a me sembra che qualcuno a parco l'ho già preso vabbè mo vediamo x come x man non lo so bartoli e non so neanche se lo sa serena come come fai a riprendere i pokemon di pokemon go che trasferisci se ritrasferisci sono ripati bartoli si anch'io ora non è un po' come se te li vendesse non è per dire che sono sociale ok però anch'io tante volte preferisco fare live in singolo da solo perchè sono un po' più chill sono più chill poi per carità quando ci ah adesso c'è un lama qui effettivamente magari provo a lootare casa qua che mi pare un po' azzardato buttarmi subito sull'ama perchè se poi viene qualcuno qui mentre poi ci sta quando uno fa i tornei fare un po' di bordello i propri amichetti vabbè diciamo che però lo shieldone me lo metto subito ma c'è un lama su fortnite ci sono i lama su fortnite incredibile incredibile oddio ma perché quindi si possono poi più recuperare no quelli trasferiti è come se li vendessi al professore ti dà le caramelle del pokemon ah ah si 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 me lo ricordo me lo ricordo ah mi hai detto quella bianca poi quella piccola bella vera oh mio dio cos'era steditata sta sopra solo rigrigliate noi non abbiamo la roba per grigliate che ah ma via ragazzi che ansietta eh regà mi sa che quello qui l'ho già preso e che te ne manca uno all'ago che all'ago a siepi si perché qua non non trovo nulla meno che non sta sotto Sono cinque da una parte e tre dall'altra Quindi se qui hai guardato tutti e tre No, non ho guardato tutti e tre Ho guardato solo sta casa, qua non c'è Eh, ti avevano detto questo Vuol dire che qua l'hai preso Oh mio dio No Oddio, ma quanta gente c'è E sono arrivato pure tardi perché mi sono andato a fare il lama Eh, sì, vabbè Eh, 92 Mannaggia, poi full C'è talmente tanta gente Che come fa la gente ad uscirne full? Ah, perché c'ha una kill Cioè questa è riuscita a camperare in una città piena di gente Guarda che è incredibile No, questa mi sa che mi tocca farla per forza in Rissa squadre Perché allora o campero Però no, mi mancano due sfide Non me ne manca una Eh, quindi tutte e due queste qui mi mancano Perché due mi ne mancano per sbloccare questa Eh, sì Eh, niente Proviamo a camperare Che devo fare? Camperiamocela in singolo Ah, annaggia la miseria, regà Allucinante Il Raider è partito dal ristorante Sordine in arrivo Vabbè Sì, praticamente sì La modalità prestazione Trasforma le build Come se fossero le da mobile Sì, sì Mangiamo in live ragazzi Mangiamo in live Tutto per Rachele Per Rachele Tutto per Rachele Rotto Rachele rotto Mannaggia, regà Pazzeschio Perché ogni volta che ti gira Guarda il monitor Mi sembra che stai guardando me Quindi mi giro per vedere Se mi stai per dire qualcosa Perché poi ti giri in ritardo Perché io mi sarò già rigirato Sì Ragazzi Brawl Stars Lo porto sul primo canale Ho due canali qui su YouTube Questo è il canale Solo Portami Ah, fa illusere Anch'io te lo vengo a fare Va Ah, pure lui è toxic Così come me Tranquillo Te li faccio tutti Tranquillo Te li faccio tutti Tranquillo Tranquillo No, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Ve l'ho detta pulita Pi, 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 pi Ragazzi è rimasto con la modalità prestazione dopo un video E non la sta cambiando perché quando cambi le impostazioni grafiche poi il gioco lagga Lagga un pochino Quindi poi dovrò Dovrò ricambiarlo Dovrò ricambiarlo dopo Nei server privati Ah, è vero Sì, è vero È vero Papà Gigi gioca ormai anche lui da PC Sì, sì Si trova meglio mosse tastiera Sì, da una cifra Ce la faremo a fare tre fasi della tempesta Poi se la safe si chiude a parco o a siepi E magari si sono svuotate come città Magari dopo andiamo lì a cercare un attimino sti quadernucci Uh, ma qui c'è la cascetta spaziale Sì, giusto Bartolino Tra l'altro appunto deve anche riavviare quando lo canti Sì Ovviamente abbiamo trovato la peggior arma che potessimo trovare Cioè avrei preferito un arco Eh, vabbè, l'ho trovata adesso ma Mazza, l'ho chiamato Che è sta partita? La challenge Delle armi viola La safe è fuori sia da parco Che da siepi Ciao Reggie E quindi ancora più lontano Ciao Reggie Mannaggia la miseria, mannaggia Unbelievable Lì c'è un pompa blu Ne ho visto anche uno verde ma Lì ce n'è uno blu Ah, però è quello primordiale Che vabbè, dai Chi sono io per dirgli no Ho un pompa blu primordiale Tam Tam Tantatatantatantatantan Vabbè, sfruttiamole per farci il metallo Regà I server privati ragazzi Mentre maggio Tecnicamente il raider è partito già dal ristorante Da una decina di minuti Quindi a breve dovrebbe arrivarmi il cibo Se riesco a sopravvivere Penso anche già in questa partita Dovrebbe arrivarmi il cibo E poi facciamo i server privati Quindi, anzi, regà Se dovete aprire Fortnite Dovete fare aggiornamenti O roba varia Per partecipare ai server privati Iniziate ad aprirlo Iniziate ad aprire Fortnite Ecco, ammazza Hanno citofonato adesso Vabbè, ormai sta partita poi la finiamo Però intanto Vabbè Grazie a tutti. 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 Oh mio Dio. Va bene, va bene. A dopo, Bartolino. Regala, chest bunker, lootare, eccetera. Non riesco a lootare, devo correre in safe. Pure questa cesta è qua sopra, rega, non me la faccio. Oh mio Dio. Me l'ho dimenticato e qua c'era il rapace che ti pusciava come un maledetto. Oddio. Eh, rega, mi sembra mi conviene andare a prendere un moto schifo in realtà. Perché qui poi la corrente del fiume è al contrario. sì, 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 mi è convenuto, penso. veramente è veloce la veloce la veloce. Non riuscivo a stare dietro neanche con la velocità normale del moto schifo. Va bene. Va bene. Dai, ooooh. Ho tolto tutto lo shield. Si riesce più a camperare come una volta. Eccolo lì giù, regà. Sta lì, mi starà a cercare. Lo dico io. Niente, vabbè, mi ha pingato le... le bende, ma... Va bene. La safe, ovviamente, è sempre lontana. Ma basta. Ma una safe vicina, una. Cioè, te ne chiedo una vicina. Niente. Eh, lo so che c'è il camion della Slarp, regà, ma mi avvicinerei a questo qui che ha deciso di tryhardare come un maledetto. Eh, vabbè. Eh, oh, vabbè, dai su. Eh, dai su. Ma poi da dove? Da dove? Cioè, da dove, regà, sto... Guardalo! Guardalo! Che sto in singolo! Neanche a di che sto in arena! Sto in singolo! La gente gioca così! È un lama, ma non mi conviene farmelo in lama. O forse sì, perché trovo le impulsi. Tanto non le troverò mai. Oh, mio Dio. È comparso il cibo vicino alla deriva. Buono. Niente impulsi. No, vabbè, regà, dai. Cioè, sto beccando più tryhardoni in pubblica normale che in arena, regà. Ma di che stiamo a parlare, oh? Ma di che stiamo a parlare! Fortnite deve fare qualcosa, ragazzi. O aggiunge qualche modalità che fa gola ai tryharder. Però deve fare qualcosa. Non può lasciare il gioco in sto stato, perché non c'è storyline. Cioè, la stagione non attira. Perché non è... Vabbè, ne abbiamo parlato miliardi di volte in live. Giocare così con i pro player di sicuro non è il massimo. No, te prego, dimmi che non mi stavi a pushà. C'è. Sì, ma poi la safe è sempre dall'altra parte e questo qua pensava a sparare a me. Vabbè. Vabbè. Eh, va male, Andrei. Va male perché non riusciamo a fare sta cavolo di sfida. C'è un'altra sfida che non riusciamo a fare. Comunque, ragazzoni, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel mi piace. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Mi raccomando, controllate di essere iscritti se non lo siete. Iscrivetevi. Vi ricordo anche di utilizzare il mio codice creatore G, G, Y, T, tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite per supportarmi. E, vabbè, ragazzi, direi di dare un attimino qui per salire. Cioè, non mi manca tanto per fare sta cavolo di missione. Cioè, devo sopravvivere soltanto ad un altro paio di cerchi della tempesta. Non mi sembra di chiedere la luna. Ok. Mannaggia la miseria, raga. Sì, Andrè, sì. Però il problema è che non lo so minimamente come funzioni. Se vada con il KD, se funzioni effettivamente con la bravura del player. Io penso di sì. Però, raga, io mi becco gente molto più forte, molto più forte di me. Ma di tanto. Cioè, non è che dici, sai, becchi gente brava, ok, ci posso stare. Ma io mi becco gente molto più forte di me. Ma di tanto, eh. Ho fatto tutta la mappa. Eh, certo, sì, stavo allo squalo. Per forza ho dovuto fare tutta la mappa, se no... Non ci arrivo nemmeno in safe. Allucinante. Vabbè, dai, almeno ci siamo fatti un altro cerchio della tempesta. Me ne mancherebbe uno. Mancherebbe un cerchio della tempesta, raga. Mancherebbe un cerchio della tempesta. No, c'è uno lì giù. Tra l'altro mi sa proprio quello che stava rompendo le scatole a me prima. Volevo andarmi a fare quella cesta e prendermi quel medikit, ma... Lascio stare. Lascio assolutamente stare. Prato ad andare a camperare il sottotetto qui della... della casetta. Qualcuno si è camperato lì alla guglia, ma veramente? È un brutto, non ho prenduto voglia. Ma, Sirius? Non so neanche se... No, vabbè. Volevo fare una cosetta, ma no. Si rincomincia a schiattare di caldo senza scondizionatore. Eh, lo so, dopo se li accendiamo. Raga, aspettiamo sto minutino. Almeno mi so fatto st'altra missione. I libri a parco e a siepi? Non lo so. Ora vediamo qual è la prossima fase di questa qui, di questa sfida che sto facendo adesso. Perché se è più facile quella che stiamo per fare è meglio. Sembra di essere in arena. Ma peggio, pure peggio. Ma se accendo con la temperatura più alta? Prova. No, no, no. A livello del pass e il matchmaking non c'entra niente, ragazzi. Non c'entra assolutamente nulla. Sì, sennò mi vado a cercare qualche video, qualche cosa dove spiegano dove sono. Costruire una tempesta alla prossima fase. Vabbè, easy allora, facciamo quella. Pulito. Ancora non si sa nulla di Rubinombra, nei dettagli. Ma ancora no. Ancora non si sa molto. Eh, Antonio, il video della PS5 lo dovrei far uscire prossima settimana. Perché finalmente abbiamo finito la nuova postazione. Ci serve soltanto di montarla e via. Comunque dai, regà, finita. Penso sarà una sinistra a parte. Così do proprio fuoco a tutto, regà. Pure lì. Sì, se è visto, se è visto. Regà, sto a rompere le scatole a tutti con l'arco. Però stop e finì le munizioni. Però era... No, eravamo ancora in safe, regà. Vabbè. Chi se ne frega. Sì, ma le assaggio tra poco, allora. Io abbiamo rubato la kill a quello lì. Godo. E quello che ho ucciso, spero sia uno di quelli che mi aveva rotto le scatole. Boom! Sì, Gabri, mentre mangiamo. Che poi ho già mangiato. Mamma mia, raga. Come mi chiamavano? Robby Nude? Dai, pushiamo, chi se ne frega. Mi raccomando, ragazzi, iniziate ad accendere Fortnite, perché tra poco andiamo con i server privati, eh. Oddio, malore. Vabbè. Puratevi. Tanto sta partita finisce tipo così. Tutti che staranno tipo così. Ok. Vado. No! Guardate se devo morire perché sto gioco mi raccoglie una cosa per un'altra. Non so. Non so. Non è che ci abbia capito molto Quello che è successo So solo che a un certo punto sto gioco Mi ha raccolto una cosa al posto di un'altra Prendimi gli scintini Sì forse per l'endgame preferisco l'arco a onda d'urto Non era un altro? Solo fiammeggiando Non so in realtà Eh no vabbè ma per l'endgame Ok sì forse qua mi sarebbe tornato Dovevo dire quello fiammeggiante Ah stanno proprio così Loro così se lo stanno a fare l'endgame Se fanno il loro boxettino E tutti e due ce l'hanno con me Va bene Nooo Cavolo regà Eh vabbè Eh vabbè ma ho ucciso che non ho fatto in tempo neanche a buildare Ci sta Ci sta boys Peccato Rosico Rosico però Mi ha abbonato in chat non hanno la rallentata Quindi ti possono scrivere di più Costruisce la tempesta Vabbè ma è easy Regà dai Da appena finiamo i server privati Lo sblocchiamo Allora innanzitutto Metto la password e la do agli abbonati Ovviamente la password come sempre Prima agli abbonati Ok Mi serve però qui Il telefono Ah regà sto dando la password agli abbonati Nel server Discord Dopodiché do la password a tutti Come al solito Comunque l'amore basta Il messicano è sempre Va bene Il sorriso è buonissimo Ma pure i pezzoni di carne è gigantissimo Va bene L'altro la carne non la metto Va bene Andrea Oggi abbiamo ordinato al messicano Ma io mi sono preso Un panino Quindi in realtà di messicano Non è che ci sia tantissimo Raga è questa la sua postazione La postazione di casa nuova Vedete è un panino Abbastanza normale Anzi il pane così grosso Vi dirò Lo apprezzo Ti hanno scritto perché non c'è nella tua postazione Buono Come no Karen Uno è anche entrato Corri toxic perché tra un minuto Dalla password a tutti Vabbè la chat la vedi però Karen Non ti è arrivata notifica Ma la chat la vedi C'è il messaggio nella chat Raga 30 secondi E do la password a tutti Sì vale Sì buone Secondo me non si sente per nulla Come sei rares Vamme lo dice adesso Ma so duro che chiama toxic boy Me lo dici mo me lo dici Bella rares No pronta a morire No Sofì Allora rega do un mozzico al panino E do la password a tutti E se saranno disattivate le notifiche Allora Karen E non l'avevo letto allora Me lo so perso anche io La password ragazzi è telefono Fai vedere il panino Telefono è la password E questo è il panino Non l'ha messo a fuoco ma È buono Gabriele è sempre quello dell'emoji Per dire la password E l'ha detto a tradurre la password Di nemoji Sì Oh no Karen Matti Grazie mille per la donazione caro Un bacione Grazie a tutti per il supporto Bentornati in live Era un po' che non ti si vedeva Bella Matti Grazie mille Aveva chiesto Luca Di vedere il panino Non voleva far rosicare Vai siamo 100 rega Quindi start Molto buono Rimani on Rare's Perché tanto un paio Li facciamo sicuro Comunque Per riposare Matti Grazie anche per il rinnovo Dell'abbonamento caro Un bacione Bentornato tra gli abbonati Grazie mille Come non puoi mangiare i legumi Karen Che tipo di dieta è? Mi sa che è una Sì Mi sa che è una di quelle Diete Beh Però so Belle toste quelle diete Porca miseria Karen Sì 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 Andrei sì Ormai Ormai è moda Oh grande Mannaggia Mi ha fregato Manuel Best Ti sono vicino Pensavo scappasse un botto Invece è rimasto lì Bello cattivo Ma ha aspettato Ha fatto pure la doppia Spettatore No Vai Manuel Grande Matti Grazie ancora Un bacione Matti Grazie avvero di cuore Per il supporto Bella Matti Ah devo un attino Spettare il microfono Perché devo fare una cosa Se provassi a fare Una cosa del genere No Che mi allontanassi Il microfono Mi sentite comunque bene No Mi dovreste sentire Comunque bene Magari un po' più lontano Ma bene Non ti ricordi il nome Eh Non puoi mangiare il primo Ho capito Non puoi mangiare gli amidi Allora No Mi è accaduto Un pezzetto di carne Non va bene Regà non riesco Il magnifico Nicco Vuole scrivere Il magnifico Nicco Eh Matti Sul primo canale Tocca arrivare un milione Speriamo di arrivarci Prima della fine dell'anno Ma la vedo difficile Porca miseria Se siete da tablet O iphone Telefono Quello che è Che vedete sgranato E youtube che in automatico Vi mette la cosa Per consumarmi Sì dovete ricaricare Dovete ricaricare La pagina O comunque Modificare L'impostazione grafica È una cosa nuova Di youtube Di default Di mettere la grafica bassa Per non consumare I dati Comunque grazie mille Matti Un bacione Grazie appello di cuore Per il supporto Speriamo bene Sta a fare parecchie kill A dopo Andre Buon pranzo Andre Attenzione Ci dovrebbe essere Anche l'impostazione Che te lo cambia fisso Carmine Io l'ho fatto ieri Perché mi continuava A mettere dall'iPad La risoluzione bassa Sì le password Dei server Li scrivo sempre Tutte in piccolo Grazie E mo si deve curà No Però è solo una benda Rip Aia Eh vabbè Non sono proprio Trasparenti Ma quasi Diciamo che probabilmente L'hanno fatto Perché Tu poti vedere Attraverso E non va proprio bene Come cosa Così cazzo No No Rip Mo ci ho aspettato Uno a poschi Era andato Cattivissimo Di riciclatore Ma poi No No regà Perché se faccio Giocatore successivo Non mi fa più vedere Armi Materiali Eccetera Non mi fa impazzire Come cosa Ci sarà il grande Mark Eh tocca Vedete Ci saranno Mark Squeezie E loro Coricini Coricini per Hyper Coricini anche per te E' carino E' carino il balletto Il mio mondo Ah però Sta arrivare La safe E' scappato A dopo Che Ma i nuovi moderatori Ci saranno Dalmeno un mese Ma i nuovi moderatori ci saranno da almeno un mese La macchina ci vuole La macchina ci vuole assolutamente La macchina ci vuole assolutamente La macchina ci vuole assolutamente Io I'll Guardate che safe Qua era perfetta la tecnica dell'ammollo Era perfetta la tecnica dell'ammollo L'ha ucciso qua No con un arco meccanico Da 100 metri Nicola l'aveva ucciso quello lì Eh Ma comunque sarà particolare Con una safe del genere è particolare Madonna lo sta alla sera La password cambia per ogni server Si regala password Oh squeezy c'è Squeezy nella lobby c'è Dobbiamo vedere se c'è anche mark Allora il codice creatore è sempre GGY Antitutto grande tutto attaccato Per il negozio oggetti di Fortnite Per quanto riguarda le password Dei server privati cambiano sempre Eh hypermoto hai usato L'impulsi così per scappare Ma mo ci arrivi in safe Non lo so Io so solo che adesso mangio anche le patatine Mangio anche le patatine Sono più contento Sono un po' mollicce però a me piacciono Un po' mollicce Mmm Mi sai non ce la fa raga Pure ne serve Che tristezza Cosa? Poi con le in bo Madonna Che bello La modalità è in singolo Normale Scandala Vediamo vediamo se ce la fa raga Vediamo se il nostro eroe Eh Io avrei provato Eh Deve continuare a pescare Il problema è che appena Uh Il buzzflopper è buono Dovrebbe trovare pure quello peperino Corri Eh ma adesso ti togli un botto la safe Mamma mia Mamma mia Deve provare a sfruttare il massimo appieno Del buzzflopper Attenzione C'ha tre medikit Forse ce la fa Ah pure lui Ma se ne trovano un botto allora Raga No No non ce la fai A parte il medikit Non so se ce la fai Non credo ce la faceva Corri che sta per ripartire Eh raga Anche se due timbano Non ci possiamo fare niente Se due timbano purtroppo Eh eh Che c'è dove fa Sono due spigati Provate a segnalarli Però non credo che Epic Prenda Considerazioni Server privati Aia Eh lo so Sì ma anche io prima ho trovato il flop per venganza Ma è come se non fosse più raro Raga Con sta gara dei pesci L'hanno reso Poco raro Mi sa Amore è altra acqua Ce l'hai qui? Dammi il bicchiere Ho preso la deriva Attenzione raga Squeezie è ancora vivo Aurelia Aurelia ha fatto una Una kill Raga Qualcuno è stato ucciso dal boss Aurelia Raga Qualcuno è stato ucciso da Aurelia LOL Da 150 metri No raga Dopo quello nel replay Lo dobbiamo andare a vedere No raga Dopo dobbiamo andare a vedere Il replay Di quello che viene ucciso da Aurelia Raga ma mi sentite meglio? Ho cambiato la posizione del microfono Per mangiare Ma mi sa che ho trovato Una posizione migliore Rispetto a quella Che avevo fino a poco fa Aia No raga Dopo devo andare a vedere Per forza il replay Ma che è Sai che è questo qui Che sta Timmando Sì così è meglio Sì così è meglio Ok Allora l'unica cosa è che Quando farò Brawl Stars Probabilmente non lo potrò Mi sa che devo spostare Il microfono A seconda se faccio Brawl o se faccio Fortnite No ce l'ho Tranquillo amore Grazie Mi ha una domanda Palla Rares Vuole essere consigliata A chiamare Rares O Toxic Poi No mi sa che Gabriel Era ancora In game Perché è morto Occhio di falco Sì Eh l'ha ucciso Squeezie Mi sa che Mark non c'è Stavolta Rip Gabri Eh Squeezie È forte forte Ma vuoi sapere Una cosa ironica Eh Avevo le patatine sopra Mollicce Poi Soprattutto Lo sfrutterei Dovrebbe essere Il contrario Io pure ce l'ho Più Più Comparte sotto Nooo L'hanno L'hanno spedito In safe Regà Agente Segreto Dieci Gli ho visto Fare parecchie kill Nelle feed Della partita Buongiornissimo Lili E complimenti Alla Buongiorno Lili A me gli asparagi Non piacciono Io ho una domanda Anche per Lili Voglio sapere se le piace La skin Quanto le piace La? La skin nuova E quanto le piace Perché fino a ora Come me con le skin Regà sono ancora in sette Qui si ha fatto Un'altra kill Ecco no Vabbè Niente Io e Lili Siamo Una persona Nulla Per quanto Le skin Dove stanno camperati Gli altri Regà Cioè sono ancora Quattro Ok Però avverisce Toxic boy Ah Toxic boy Ok Oh no Lili Vabbè Potete diventare Amichetti del cuore Dai Solo mi va bene Niente Squeezie Ne ha fatto fuori un altro C'è qualcuno sotto O sopra Non capisco Mi sta sotto Mi tocca riprendere Vibax Lili Non ne parliamo Aia Ah Anonimo Se l'hai rischiata Qui sta anonimo Però eh Perché gli stanno Sparando anche Da lontano Aia Ecco Squeezie Ecco Squeezie Sempre questo skin Sta E infatti Eccolo A quante kill Starà Squeezie Ma se ne avrà fatte Una decina Sì sì Una volta Sì Però Sull'altro sito Una volta Sì Però Oscurando la cam Parecchi movement Eh raga Squeezie È forte proprio GG Bravo 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 Ah l'altro Era Nicola Che aveva fatto Quella kill Con l'arco Mi ricorda Il signore Deleone Se la porta A casa Per l'ennesima Volta Sarei dire Il signor Squeezie La safe Sempre vicino A brughiero Dì effettivamente È vero Allora Andiamo con Un'altra Un altro Server privato Allora facciamo Replay Che? Replay Oddio no no È vero è vero è vero Regano Dobbiamo vedere il replay Dobbiamo vedere il replay Dobbiamo vedere un attimo Il replay regà Dobbiamo vedere il replay Dobbiamo vedere quella cosa Perfetto L'ho detto Lili La pensiamo uguale Vedi Oddio In che momento era Però È stato penso Verso la fine Sì Aurelia Aspettate Regà Eh Mo tocca Penso massimo Dieci minuti Prima della fine Non so neanche Se me lo faccia vedere Perché comunque Era parecchio lontano No aspetta Mi sarà prima No era molto prima Ah vediamo la mappa Qui come era No non me l'apre È buggata Ah già la miseria Non mi fa neanche cambiare Regà le replay sono buggate Non mi fa cambiare persone Infatti ragazzi Quel Non ho potuto Segnalare Quel ragazzo Quei due ragazzi Che stavano Timmando l'altro giorno Purtroppo Uno l'ha segnalato Uno l'ha segnalato L'altro no Purtroppo Eh Perdono Bocca piena Qualcuno è morto Da Aurelia E volevamo vedere come Eh no Però vedete Non mi carica nulla Se non le strutture Il momento più o meno Era questo Perché mi ricordo La safe Si stava chiudendo E Aurelia Stava uscendo Di poco Dalla safe Eh no Vedete Non mi carica nulla Non mi carica Non mi carica Aurelia Non mi carica nulla Stavamo Stavamo aspettando Uno troppo lontano Ma da 150 metri L'ha ucciso Ragazzi Da 150 metri Raga 150 metri Cioè Pazzesco Come lo possiamo Chiamare Era quello Che ha ucciso me L'aveva fallitato Con uno Che l'ha lasciato One shot E stava scappando Rip Orello Quindi l'ha fatto One shot Scappava E si è beccato E per forza Orelli All'ontananza Ok Ho messo La password Agli abbonati Regà Su discord Gli abbonati Adesso se lo ritrovano Su discord Regà E tra poco Lo do a tutti Sì sì regà Tra due minuti Tra anzi Un minutino E trenta La do a tutti Neanch'io Le so Usare Ma Lei non so Facce Usare Soprattutto Adesso Sono pure Buggati Sono Buggatissimi Sì adesso Sono Buggati Io mi Nervosissimo Lascio Prover Adesso È diventato Franco Catanese Perché Catanese Codica Se ricordo Bene Singolo Singolo In singolo Regà In singolo E tra poco Ve la do Regà Tranquilli No Hai fregato Gabri Perché Gabri Non può fare Un po' C'è una password Che hai messo Ah Eh no Stavolta è difficile Sì stavolta è difficile Eh non lo so Foroxy Non lo so Dobbiamo un attino Vedere Eh No Reggi Allora mi manca L'ultima sfida Per Per La cosa Qui per Rachele Rotto E Mentre Coccodessi I coccodelli L'abbiamo sbloccato Prima ci abbiamo anche un po' giocato Allora ragazzi La password Che non riesce a fare neanche Gabri Con le sue Emote È Tappeto Tappeto Io farei una protesta Gabri Tappeto Ma è possibile che non c'è un emote del tappeto? Esatto D'iPhone c'è la ricerca però Aspetta No non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è nessun tappeto Lol Ho dato una nasata al microfono No non serve l'abbonamento Per giocare nei miei server Anche perché ho appena detto La password a tutti Sì Lili non sta mandando le notifiche del tag Si apre la chat però la vede la password Quello è un cestino Gabri Eh non lo so Bartoli Non lo so Ci sto ancora ragionando su Ci sto ancora ragionando su Non è facile Sì mo oltre a YouTube Eh ci si mette pure Discord Oltre a YouTube Fortnite Ma possibilmente Con l'ultimo aggiornamento Ha modificato Le A riattivarle Vai Gabri Segnaliamolo Com'è possibile Non c'è neanche un emote del tappeto Addio 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 Amici Addio Noi ci dobbiamo Lasciare No no Rimesso Le impostazioni Grafiche Mannaggia La Miseria Io ce l'ho già diversa Dal cellulare Bartolino Si Volevo proprio andare a parco LOL Ma l'hanno cambiata Mi sa Non l'hanno cambiata Già Bartolino Io la vedo diversa Io da mobile La vedo diversa Però è comunque Molto simile Ho comprato il nuovo ipad Matti Proprio i nuovi ipad Quelli che montano L'M1 Quelli strafighi L'ho già comprato Dovrebbe arrivarmi Non va giù Non fargli questa domanda Bartolino Non fargliela Non ho letto Lascia stare Bartolino Lascia stare Stendiamo un velo pietoso Io c'ho la vecchia No rega È ganasciata Ma si può essere così sfigati Ma si può essere così sfigati Che ganasciata Maledizione Ma poi in un intero piano Della casa Io che vado a trovare Solo e soltanto Un assalto Bene Eh giusto Toglio la modalità prestazione Eh lo so Ma devo riapriare il gioco Dopo che ho fatto Tutti sti cambi Quindi comunque Devo essere fuori partita Eh non c'è posto per niente Sì sono fighi I nuovi ipad Ma Quoto gli dice il fatto che Sono solo per chi lavora Sì sono solo per chi lavora Rega I nuovi ipad Perché sono potenziali Per usarci programmi Editing Photoshop Con uno di vita è rimasto? Ah no 8 Ok Che comunque La skin è veramente bella Cioè secondo me sono inutili Anche per chi studia Sì sì no Le mani basse sono inutili Per chi studia Sì sì Inutili per tutto Sono inutili per il lavoro Ma Le cambio le impostazioni ragazzi Perché comunque Non me ne frega nulla Cioè Le modalità prestazioni Non è che mi facciano impazzire Anche per i content Proprio Non sono belli i colori Le immagini sono tutte statiche Riguardo la questione Fortnite Apple Eh rega Devono esserci ancora L'ultime udienze Dovrebbe esserci Prossima settimana L'ultima udienza E poi tipo Entro il 24 Il giudice deve deliberare Quindi possibilmente Sapremo qualcosa Dal 24 Raga Nei server La partita safe È praticamente impossibile No Nei server È impossibile Però penso Raga Che dopo questa Vado direttamente A finire Le ultime missioni Così sblocchiamo Sta Il lavoro Di Rachele Rotto Ma no No raga Ma non me ne frega Niente Cioè Adesso semplicemente Stavo rosicando Perché volevo Provare a scappare Ma se no Chi se ne frega Per i server privati Eh sì Ma al viola È ovvio Che sia bellissimo Tra l'altro Raga A proposito Dell'assassina Nella guglia Devo ancora Sbloccare La versione dorata Rialzato un po' Il microfono Almeno me lo posso Mettere così È battuto sulla sedia Sì No l'ha disciata Eh rip Con te è anche il mio Lili Madonna Lili GG Fattuta ovviamente Oh bella la hit Eh 102 Ma non basta Quoto Sì ma Quoto Ale Ammazza Parliamo del viola E qua Compare Ale Purple Bel nome Ale Ale Purple 11 Ma codice Serena Non può neanche Mangiarli più di tanto Gli arancini Quindi Non credo Le manchino Così tanti Così tanto Appunto Io giù Giù da lei L'ho mangiato Giusto un paio di volte Quindi non è che Ti posso dire Mi manchino Poi Qui vicino casa Abbiamo anche un ristorante Lì fa molto buoni Quindi Gigi Gigi fino ad ora Quanto volte Hai cambiato casa Questa è la prima Io non ho Non ho mai Fatto Un traslogo In vita mia Cioè Ho sempre vissuto Con i miei E i miei Da quando sono nato Non hanno mai cambiato casa Era Era The first time Che te ne pari Delle armi mitiche Di sta stagione Ma perché Ci sono armi mitiche Fanno proprio schifo Cioè L'arco Di razza È forte Però L'arco Come arma mitica Boh Serena è di Catania Raga Parli bene L'inglese No Beh no L'hai detto bene L'inglese No È vero È vero Il no Lo so dire Stagione ambiziosa Come sarà Secondo me La prossima season Ah sapete Qual è la cosa È che Non possiamo fare Prevade E sapete perché Perché Analizzando Quello che hanno fatto Nella stagione 2 Ok Cioè Scusate Nella stagione 2 Nel capitolo 2 Cioè Vi faccio L'esempio pratico Allora Cambia il capitolo Ok Cambia il capitolo E quindi abbiamo L'acqua Quindi dalla stagione 10 Del primo capitolo Alla stagione 1 Del secondo capitolo Che cosa succede? C'è l'acqua Grossissimo cambiamento Regà Cioè l'acqua va a cambiare tutto Perché si può pescare Introducono i pesci Introducono il fatto che si può notare I motoscafi Ok Grosso cambiamento Dalla stagione 1 Alla stagione 2 Adesso parliamo solo di secondo capitolo Abbiamo l'introduzione dei boss Degli scagnozzi Delle armi mitiche Bunker Quindi altro grosso cambiamento Il gioco ogni stagione Cambia radicalmente Le uniche stagioni Che hanno Poca differenza Tra loro è la stagione 2 E la stagione 3 Ma comunque cambia parecchio Perché la stagione 3 Era piena colma d'acqua Vanno a togliere un po' di boss I boss che ci sono Hanno altre meccaniche Perché hanno più armi mitiche E c'è tutta un'altra serie di meccaniche Che vanno a cambiare Stagione 3 Alla stagione 4 I superpoteri Perché è la stagione della Marvel Quindi introducono i superpoteri Introducono le Navicelle spaziali Della Marvel E tutta un'altra serie di cose Stagione 5 Introducono gli NPC Vanno piano piano A togliere quelli che sono i boss Aggiungendo gli NPC E il sistema dell'oro Stagione 6 Vanno a cambiare Completamente La situazione delle armi Vanno ad aggiungere Gli animali Che cosa vi voglio dire Con questo Che non possiamo fare Il pre-vade Della stagione 7 Perché È palese Come Fortnite Stia cercando Di stravolgere il gioco Ad ogni singola stagione Cioè stanno stravolgendo Totalmente Il gioco ad ogni season Quindi io sono sicuro Al 1000 per 1000 Che la prossima season Sarà completamente diversa Da questa qui Poi Poi Dipenderà molto Anche dall'evento finale Perché? Perché sicuramente Qualcosa con sta cavolo Di guglia devono fare Cioè regà Qualcosa con sta guglia Devono fare Se non faranno nulla Con la guglia Allora Possibilmente Per la prima volta Durante questo secondo capitolo Avremo due season Abbastanza simili Uh Robin Hood Ah solo con l'arco E con lo spas Va in giro No no Io pure ho lasciato Le mie figure Ciao Una cosa stupida Ti rispondo io Eh no Ma sì Ma è una cosa Che la gente dice Ma È una cavolata No ma più che altro Ma non è tanto quello Perché comunque Cioè A carbonara La fanno buona pure Al nord La fanno buona pure Al sud Non è che diventi a Roma Per forza Mangiare la carbonara buona Però diciamo che se vado giù Cioè se un romano Va in Sicilia Cioè non va giù Per mangiarsi la carbonara Cioè al massimo vado giù Per mangiarmi che ne so Il pesce Gli arancini Tutta un'altra serie Di prodotti tipici Del sud Poi a seconda Poi a seconda della zona Ovviamente No Comunque la carbonara Come quella di Roma Fino ora non l'ho mai Vabbè Sì vabbè Poi è anche un modo Per cucinarla Eh appunto La facciamo diversa I cannoli Cioè Io sono molto Per il Ok se fai un viaggio Va bene che ti mangi Le cose Assolutamente Ti mangi pure a casa Però qualcosa di Tipico La devi assaggiare Cioè Io pure spesso e volentieri Quando ho viaggiato Magari mi andavo a prendere Delle cose Che conoscevo No no Magari anche solo per curiosità Però Boh Poi si scanna in chat La cassata Non l'ha assaggiata Granita anche La granita l'ha assaggiata Però preferiva il gelato Mi piaceva di più Nella prossima season Cosa mi piacerebbe Introducessero Boh Il problema è quello È che Col fatto che vanno a cambiare Tutto quanto Non saprei neanch'io Cosa voglio Effettivamente Io vorrei Dei bunker E dei boss Seri Eh no St'aura Aveva deciso Di non fare nulla Stava scioperando Aura qua Ma sì Ma che poi in realtà Cioè Un'altra cosa Che io penso È che tu La carbonara In realtà La puoi fare Anche come vuoi Ma non la devi chiamare Carbonara Cioè a quel punto La devi chiamare In un altro modo Cioè chiamala Spec e panna Pasta spec e panna Non la puoi chiamare Carbonara O se no Carbonara O se no carbonara Con lo spec Cioè Secondo me basta Semplicemente Cambiargli il nome Poi puoi fare Quello che vuoi Cioè a me Se tu Ti fai una pasta Con Cioè per esempio Io una volta In Spagna Stavo a Barcellona C'è una catena Che si spaccia Per ristorante italiano Non mi ricordo Neanche come si chiama E L'ho voluta L'abbiamo voluta provare Siamo entrati E Andiamo a leggere Carbonara di pesce Ora non so se lo sapete Ma esiste anche qui in Italia La carbonara di pesce Ma non mi ricordo Precisamente come si fa Però una volta L'ho mangiata Ed è Spaziale Se fatta in un certo modo Lì Carbonara di pesce Era banalmente Panna e salmone Ok Quindi praticamente Che panna Salmone E non mi ricordo Che cos'altro A riempire Un formaggio Mi pare Non mi ricordo Precisamente Che cosa Ed era buona Cioè in realtà Vi dico che era buona L'ho mangiata Mi è piaciuta Cioè non è che M'ha fatto schifo Era buona Me la sarei ripresa Per esempio Però non la puoi chiamare Carbonara di pesce Perché non è una Carbonara di pesce Fiolletta Cara Fiolletta Non è una Carbonara di pesce Cioè è quella È quello il problema Non ho capito perché Non abbia provato È tutto lì Il problema Sì no Una volta Io ho assaggiato Sta carbonara Che poi tra l'altro Io da piccolo Non andavo Matto per il pesce Anzi Ne mangiavo poco E neanche Mi faceva impazzire E l'ho mangiata Che ero abbastanza Piccolo Ma mi piacque Talmente tanto E me la ricordo ancora Ho miss Cliccato Giulia è una miss È miss Cliccato Si dice miss Cliccato Si sto scherzando Però miss Sembra miss Hai capito Missis Missis Giulia Cliccato Giulia Ma che è cambiato Il badge No però stavolta Mi sa che è cambiato Non c'era quello viola Giulia Un bacione Grazie mille Per il supporto Bentornata Tra gli abbonati Grazie mille Signorina Giulia Miss Giulia Un bacione Tanti infatti Li chiamano Burger di soia A parte Non li chiamano O tipo Burger vegani Si si Allora Diciamo anche la verità Essendo una novità Secondo me ci sta pure Che magari lì Gli metti un nome Come hamburger Perché magari Attiri gente Cioè in qualche modo Tu devi attirare qualcuno A mangiare quella roba Lì c'è tutto un altro discorso Da fare Di qua mi sembra No Karen No qui sul secondo Karen no Anche perché mi sei Qui sul secondo Karen Non è nemmeno Un anno che stimmo Probabilmente Che vuol dire che non ci credo mai Non hai mai mangiato Una carbonara Giulia è 10 mesi qua Allora no Probabilmente streamo Da un anno Non lo so No ma sta palesemente trollando Mia figlia Fammi vedere Dal canale principale Visto che Youtube è stupido Come mai Ma neanche quella cucinata male Tipo che Ci mettono Il prosciutto cotto Ci mettono qualcos'altro Al posto del guanciale Amore ti informo Che io sono abbonato Da un anno e due mesi Ah ok Vabbè allora Un anno e due mesi Che streamo di qua Madonna Male male Giulia Pure la matriciana La cacepepe Mai mangiato Cioè Non mangi pasta Praticamente La pasta al sugo Non hanno preso il chat L'argomento cibo Visto che stavamo pranzando Ehm Neanche quelle Mannaggia Vabbè si Pasta al pomodoro Dai Però non mangi pasta Praticamente O mangi solo quella Al pomodoro Ma Giulia Vive di pizza Ah è vero Lei vive di pizza Grave Grave Giulia Molto grave Quando verrai qua a Roma Sappiamo cosa fare Come prima cosa Mi piace la pizza Beh 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 Ma anche perché Secondo me Quando a qualcuno Bisogna chiedere Se gli piace o no La pizza Cioè È impossibile Ti dice no Perché ci sono Talmente tanti gusti Della pizza Che ok Può non piacerti Magari La pizza Quella classica Non ti piace La pizza Margherita Cioè per esempio C'è a chi Non fa impazzire La mozzarella E quindi magari Ti può dire No non mi piace La margherita Però ci deve essere Per forza Una pizza Che ti piace Ragazzi Che bebe Quella fatta Bene E veramente Buona Anche io Bazzolino Vivo di pasta Senza pasta Pranzo Io sarei morto Sì no Io pure Io pure Io mangerei pasta Io mangerei pasta La mattina Pranzo E cena Io farei tipo Che ne so Oddio La mattina Magari no In realtà La mattina Magari no Però Mangerei Pasta E cena Pasta Pranzo E cena C'è anche La pasta Però la pasta Al ragù Deve essere fatta Proprio bene Perché La pasta Al ragù Non è facile Da fare Poi un'altra Di quelle Semplici Da virgolette Mi piace molto È L'aie e olio Che proprio È difficile da fare Perché è difficile Bilanciare Gli ingredienti Qualcuno di voi L'ha mai mangiata La pasta dolce Che ultimamente Vedo tantissime ricette Di pasta dolce Comunque Sono rimasti in due Oddio Ma in che senso Ma mi sono perso qualcosa Ma siete sorelle Lili Duelli Mi sono perso qualcosa O siete tipo Solo amiche Amiche del web No Ma come Ti ho bocciato Roma Tuo padre Barte Ma come Ah Siete proprio Con inquiline Porca miseria Da cinque anni Siete migliori amiche Che carine Porca miseria Cinque anni Sono tanti Cinque anni fa Io manca conoscevo Serena Quindi figurate Fa così schifo Roma Giuli Vedi che puoi fa Quando vieni qua a Roma Vedi che puoi fa Insomma Carbonara A Firenze E la carne Invece Di andare a mangiare Che riso ho provato Io Non ho la pasta dolce Il riso al cucolato È buono No Io Ste cose così Non lo so Dipende Devo assaggiare Eh ormai Quasi due anni Lili A settembre Sono due Ah Perché giustamente Vi fate il giro Con la macchina E beh Vabbè Sì Giustamente Vabbè Quindi non vi farete Proprio giri Nelle grandi città Diciamo Che sia effettivamente Roma Se ti devi fare il giro Con la macchina Un po' particolare Sì Diciamo E ti devi trovare Magari al massimo Un albergo Tipo Non ti dico Proprio in periferia Però in una zona Dove si Puoi star tranquillo Che lasci la macchina E puoi prendere la metro Eh Roma Ti devi organizzare bene Se puoi venire A visitarla Non è Non è una di quelle città Che puoi prendere Troppo Alla sprovvista Altrimenti Te la seguiresti male Poi diciamo che Per vederla tutta Non ti basterebbe Nemmeno un mese Penso che nemmeno io Ho mai visto Tutti I monumenti E tutti i musei Qua a Roma Uno più uno Fa due No Rip Uno più uno Fa due E' aperto Anonimo Non saprò mai Chi è Ha vinto Gigi L'hai letta Karen No me lo sono perso Scrivi un libro Così abbiamo una scusa Per fare raduna Le mondatori Eh Tocca Tocca aspettare Qui La situazione Covid Dopodiché sì Eh Purtroppo Raga Covid ha affermato Un sacco di cose Vai Lily Ci lavora pure La mondatore Ottimo Sappiamo Dove iniziare Il tour Esatto Eh no È difficile Proprio Poi considerate Che C'è uno Diceva Dai sei di Roma Lo avrei sicuramente Visitato Il Colosseo Ma in realtà No Cioè tipo Se non ti ci porta La scuola Cioè non è che Ti viene in mente Di andare a visitare Il Colosseo Perché poi Quando sei di quella Determinata città Non ti viene ad andare A vedere quei posti Esatto Sono sempre lì Esatto Esatto Chi se ne frega Invece tipo un'estate Che non siamo partiti Quei miei genitori Abbavano deciso Di rimanere a Roma E In quell'estate Ci siamo presi una settimana Per visitarla un po' tutta Quindi siamo andati Di una volta al Colosseo Una volta altri Musei Un po' così No Bartolino No Rib Beh una volta A Roma Tocca annacce Dai Eh regà Roma non basta un mese Per Non basta una vita Per Mirella Il video al Colosseo L'abbiamo fatto fuori No regà Ma si può Anch'io l'ho mai visto Si può proprio visitare all'interno Regà Cioè ci sono proprio i tour All'interno del Colosseo Ti spiegano cose Ti fanno racconti Ti fanno vedere come era dentro Come gestivano le cose Cioè Ok Vederlo da fuori Va bene Però poi ci sono proprio i tour All'interno E Tante altre cose No no regà Non è Non è un server privato Adesso Completiamo un attimino Le sfide Comunque ragazzi Mancano Prendete Se mi piace 3500 Che facciamo Tutto Tutto Ovvio Ovvio Che conosco Karen Si 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 come no Ci ho convissuto per anni O Gabri Con la metropolitana Che passa sotto casa Non è carina Io mi ci sono abituata Non ci facevo più casa Come per Le volte che c'erano tipo Dei terremoti Ma come lo accorgevo Perché davo per scontato Possiamo la metropolitana No no Si come per esempio Io invece Regà Sono abituato Al passaggio Degli aerei Sopra casa O del treno Noi abbiamo una ferrovia Non abbiamo la stazione Però abbiamo proprio una ferrovia Che passa qui vicino casa Ma a Milano Prima o poi Bartolice Ricapiterò Cioè Si Giulia Forza Si Molto più di un anno Praticamente Un anno e Qualche mesetto E' scappata Giulia Non risponde neanche più Alla madre Non è vero No però con sta situazione Cioè io non Non mi muovo da Roma Da non so quanto tempo Cioè Ma non perché poi Ci abbiamo tanta paura Perché per carità La paura c'è Però Proprio anche Per una situazione Di Tranquillità Ci sono stati tanti Sì sì appunto Anche il fatto proprio Che Abbiamo l'ansia Magari Che portare qui Sì Perché comunque Mio padre Anche nel periodo Covid Del lockdown Eccetera Ha continuato a lavorare Perché Perché vabbè Comunque ha continuato a lavorare Ma non sto qui a spiegarvi i dettagli E quindi andava in giro E Mamma pure Comunque per il primo periodo Continua ad andare in ufficio Eccetera Buon pranzo Roman Buon pranzo Roman Buon appetito Allora Devo buildare Dentro la La safe Bellissimo Bellissimo Devo dire Bellissimo Sta lì dietro E' per quello Giulia Aveva l'ansia Perché se rimaneva bloccato giù Come cavolo lavorava Sì sì Anche per quello Ovviamente Io qui Ho potuto lavorare comunque Perché comunque Lui è Anche la roba Lui è Lui è Lui è Lui è Da me lui che Cap lo trova Per lavorare Non avevo niente Raga Questo è immortale Ma quanti materiali C'ha poi Soprattutto Niente Ti hai rifatto lo shield E vai giù Per favore Assurdo Non moriva più Cioè Basta 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 Per favore Muori E vai giù Per favore E così L'ho ucciso Ah ok Ok Karen Quindi anche tu Sei qua del Lazio E non moriva Non moriva Non moriva Ragazzi No regà Mi sono sbagliato Fermo Lo prende le frecce Ma perché non mi prende le frecce Munizioni piene Non andava giù Questo nemico È stato davvero difficile Ucciderlo Let's go Oddio Questo potrebbe interessarmi Gabri Stai a fare Il posto mio Cioè tipo io In Sicilia Definisco aprica Perché Cazzo In Tunisia Si può considerare Sud Che perché ormai Tipo in Sicilia Si schiatta Porca miseria Lo scorso anno No Ormai no Due anni fa Quando sono venuto Oddio no Che era lo scorso anno A novembre Cioè vabbè Un anno e mezzo fa A novembre Stavamo ancora Con le maniche corte Mauro Grazie mille Per il rinnovo Dell'abbonamento Un bacione Mauro Grazie per il supporto Caro Grazie mille Come stai? Caro Non mi affega Se a te piace Fregatene Però ti capisco Tutto bene Tutto bene Mauro Madonna E' l'acqua congelata Care Ho spaccato tutto Allora Ho sei ingranaggi Quindi potrei farmi Uno spas Tentativi di inbernazione Ma no Per adesso Non la potenzio La mitraglietta Non ne vale La pena Cestina leggendaria La mitraglietta Super mega Pica potenti No Eh si Incredibile Dipende da quanti mesi Si è abbonato No ma non spacca niente Il taxi Qua Uh Ma quel raptor Ha appena ucciso Qualcosa Io ho una domanda Per te amore Per me Sì quando sposto il microfono Senti Quando? Sposto il microfono Lo senti? Cioè senti ti può strusciare? No 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 Vieni safe Fittami tutto Spigliamo in safe Oh Oh no Sto perdendo vita Per fare una missione Me l'ha data? Postuisce la tempesta Non me la sta dando? Why? Eh da quello che ho detto prima Mi sa che Karen appunto Ha problemi con gli amidi Raga perché non me l'ha data? Quindi possibilmente Era dovuto a quello Oh Non famo scherzi eh Non famo scherzi Raga Eh speriamo che una di quelle Mi dà in ritardo L'hai fatta tu Giulie Sette kill in un mese Sette kill Ho letto kill Ho letto kill Dico ma ricominciavo già a portare L'hai detto Giulie Sette kill in un mese Non è poco Cioè Un botto Sì Karen Ma poi penso che se tu avessi Cioè Avevi quei problemi con gli amidi A volte anche quando hai problemi Assimilare un cibo Ti ingrassi eh Già eliminando quello Ti sbonti un botto Muore mi puoi andare a prendere altra acqua Please Yes Thank you so much Eh quello è vero Bartolino Sì quello è vero Assolutamente Assolutamente Sì no infatti Karen È un macello Cioè il proprio corpo Bisogna conoscerlo Perché tante volte Non basta neanche andare dal dietologo O dal nutrizionista Perché? Perché magari Se non hai fatto dei controlli prima È quello di fare una dieta Ma giustamente Ma giustamente Magari non è lui che sbaglia No? Banalmente È che ovviamente Tu non sai di avere certi problemi E quindi ti attacchi Vabbè sì Lei appunto Le hanno fatto le analisi Sì esatto Tocca a fare analisi E poi si va a comandare A dopo Karen A dopo Karen Sì esatto Sì esatto Sì esatto Sì esatto Guarda te Wolf Come si sblocca la skin final pass Bisogna completare 70 Sfide epiche E io le dovrei aver fatte Alla fine di questa partita La dovremmo aver sbloccata Raga Ma la live è online È online la live Siamo ancora tutto a posto? Sì Ti sto guardando dalla live io Perché? Sai che mi è andata in stand by Il monitor Eh vabbè Se vai in stand by il monitor Non fa niente Ho fatto prendere un colpo Madonna raga Se ho girato il monitor De dove sto a gestire la live Era spento Codice non è normale Te lo dico per esperienza Hai qualche intolleranza Cosa? Mangia e va subito al bagno C'è qualcosa Che il tuo corpo non vuole Raga sto allagato brutto No buoni tutti Non mi ha sparato No buoni tutti Ho allagato un botto raga Ma proprio tanto Addirittura che non mi sparava Ma non scherziamo Ha allagato anche la live Ho detto Bart Eh mi sa che Non me l'ha data Dai su E dai però Non mi ha dato neanche la sfida No raga Non potete sbloccare le cose del passo Senza il passo No regà Dovete avere il passo Regà Non mi ha dato la sfida Sì codice Quello è stato uno dei motivi Che a me ha fatto scoprire Ad avere le intolleranze Era uno delle varie cose Dei vari sintomi Quindi controlla Diversi Regà Non mi ha dato la sfida Una Me ne mancherebbe una Dovrei fare questa Ma l'ho fatta Perché non me l'ha data Non mi ha dato le sfida Raga Mi sono praticamente Stufato Di fare le sfida Vorrei farmi una partita Normale Eh ma si vede Che è buggata Dai Devi costruire in piena tempesta Non ero in piena tempesta Completamente dentro Ero completamente dentro la tempesta Ragazzi Va bene A dopo Giulia A dopo Buona doccetta No No c'è scritto Costruisci Non c'era Costruisci 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 una tempesta Regà Eri a bordo No no Ma che era a bordo Regà Ho costruito dentro Ma era a bordo Eh lo so Foroxi Ma diciamo che la domenica pomeriggio È normale Poi tra poco ci stanno pure le partite È normale Un po' buggata come sfida Devi costruire un botto Prima che si sblocchi E devi farlo lontano dalla safe Stanno dicendo Proprio Quindi dal In mezzo Proprio in mezzo Vabbè regà Ci riprovo Ci riprovo Che devo fa' Mi dissocio Bartolino Volevo leggere Non lo voglio leggere Ma poi te l'ha data Lili O neanche a te l'ha data Alla fine Ma i like è normale Che siano di più Perché tanta gente passa Lascia il like Magari anche per la sfida Dello shoppare O proprio via Sì raga Anche perché Sto in live da quasi 4 ore Però sì è vero Che il contatore Delle spettature Ultimamente si bug No Eh bravo Bravo Provo Proviamo Bartolino In realtà Maggio è più probabile Che ti venga a freddure Perché ci sono le sbalze Di temperatura Aprile maggio Sono macello Bartolino Dice Mi fai a usare Il pc streaming A far sentire l'audio Eeeh Con la scheda acquisizione Con la scheda acquisizione Attacco un pc All'altro Devi impostare che il pc da gaming Come uscita audio Abbia Il La scheda acquisizione Per esempio La mia è una vermidia Come uscita audio Ho la vermidia Che è attaccata al pc da streaming E ho le cuffie Che ce l'ho attaccata al pc da streaming Ho notato adesso le gambe Quando plana Si che si Buggano con Ma mi stavano sparando Mi stavano sparando Vabbè Ottimo Piripiri Pippippippippipp.. Oh C'è Jonesy Bella Chi cuo Bella Chi cuo Come stai Come stai Chi cuo Si ma è normale Anche come appunto Ammalarsi In estate C'è A freddore Pio probabile Penso Appunto Mezzo tempo Estate Che magari tipo Con le giornate di vento Sudi Vento E rip Io ce ho parlato Magari Si sentiva solo che droga Eh raga Speriamo che adesso overbuildandomi la dia Eh perché così almeno abbiamo completato Che poi tra l'altro ragazzi Dobbiamo raggiungere anche sto livello 225 Così almeno sblocchiamo pure L'assassina della cuglia dorata Buongiorno Cristal Ciao Cristal Come andavo in latino Ma primo e secondo Quando facciamo la grammatica malino Nel senso che Non è che mi sia mai entrato Troppo in testa Dal terzo quando abbiamo iniziato a fare la letteratura Quindi abbiamo iniziato La modalità prestazione Dal terzo quando abbiamo iniziato a fare la letteratura Eccetera Sono andato molto meglio Allora Non la può girare in questo momento Però effettivamente non avete torto La freccia Del fotice Adesso che hai la campo così Dovresti girarla Speramente per i tera Speramente per i tera Sì Karen Però vedi la campo come ci va Ancora sfruttata Per E vabbè Lo sto lisciando in ogni modo È one shot da mezz'ora sto tipo E vaffan bene va Secondo me sei pure uno sniper T'ha detto bene per mezz'ora che t'ho lisciato Porca miseria Se no l'ho asfaltato subito Solo che mo' non c'ho materiali per buildare Mannaggia la miseria In realtà non vorrei neanche parlare Mette Faita Perché lui mi risente in cuffia Con il nuovo setup mi risente in cuffia Quindi li do i facili Ma no Eh regà dovrei Oh ma questo ormai Lo stanno spammando di brutto Ormai Ma sarà per questa settimana dei pesci Sì sì certo Ovvio Allora Proviamo ad overbuildare Solo che mo' mi mancano i materiali Mannaggia a quell'infamotto Karen le sembra di aver messo qualcuno Sì 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 Mi ha segnato qualcuno di qua a destra Sì 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 Vabbè regà Prendo sta partita per morire Tanto morirò Però almeno posso overbuildare Toxic no Toxic di la mia palo Regà ma uno che mi viene a pushà qui così no Ma può non essere uno sniper Oh regà Mo' non mi potete dire Che non sto dentro la safe Era giusto NPC Marta Non me l'ha data Lo dico io Non me l'ha data Ah adesso me l'ha data Ah meno male Però ancora non siamo arrivati al livello Vabbè We are the champions We are the champions Abbiamo sbloccato Rachele rotto Rachele rotto L'abbiamo sbloccata Ecco Ora dobbiamo farne Una cinquantina per me Rachele rotto L'abbiamo sbloccata Finalmente Che figa Allora Li stanno bene le alette Però Sì Li stanno bene Ma Non si baggano neanche col cappuccio della felpa Eh ma io Non ci metto niente Allora No ho messo due N Invece che due Ma questo io lo lasciamo È figo Allora Ah non ce l'abbiamo Un del tablino Sì è al coso Lei Corvo Al deltaplano corvo È bellissimo Amore Perché ho cercato Tin Non me l'ha dato Ah perché lo stavo cercato A quelli degli ultimi Trenta giorni C'è pure la copertura No Alleluia 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 Dai facciamoci arena Lattosio e Farine lavorate Codice Sono intollerante Alla roba chimica Con cui Lavorano E sbiancano Il grano Che cica mala E c'è Da vedese Adesso è intollerante Anche altre Ma lei Non le vuole andare a fare Le visite Non è vero Una bambina viziata Non è vero Ma come Ogni volta Ti andiamo dal dottore E mi dici di no Ma non è vero Poi ci credono anche Non le dire ste cavolate E' alla deriva Il Puvazzetto Fallo vedere bene Ciao amici Sono alla deriva E la fotocamera Non mi mette a fuoco Perché non mi mette a fuoco La fotocamera Cattiva Bamba Ciao ragazzi Ah ragazzi Ho anche comprato Uno scar Al mercato nero Guardate un po' Salvatemi Sì sì Andrei Ma è venuta apposta La deriva Che fa Come secondo lavoro Fa l'architetto Adesso mi Darà qualche dritta Su come andare a Mettere il tutto dietro Speriamo bene Ah esatto Bart Esatto Mi dissocio Allora Prendiamoci il pompo Prendiamoci il pompo E andiamo a comandare Ma sarebbe Fiore zero La copertura di Ma no Si chiama Team Titans Proprio il suo set Mi pare una cavolata Mi pare una cavolata Ma se è così A me Va bene Ma se è così A me Va bene Che trigger però Andiamo a pushare Mi distruggo tutti Mi distruggeò Eh sì Gabri Però non è Vero Ho lissato ragazzi L'ho preso 144 Non ci so L'ho fatto fuori Non fate del file di Fortnite Per più di quattro ore ragazzi Perché potresti finire come me Ti dicono che puoi farti L'arco infuocato Con la tanica L'arco infuocato Ma che andiamo Dobbiamo a fare Non apre mai Non apre mai la cassetta Delle munizioni Quanto mi trigger No Regà Non lo posso fare Perché questo è l'altro arco Questo è l'altro arco Maledizione Il problema Il problema è ormai Dove scappo Foroxi Ah ma dove Mi ha preso Ma come mi ha preso La punta del piede Il tallone d'Achille Mi ha preso Ma dov'hai in giro Con sta tutina Sembra in teletubbies Maledetto Sto maledetto Teletubbies mancante Ah giusto Andre Vero L'hanno rimosso Da arena Quello fiammeggiante Non si può Craftare E non lo puoi neanche Trovare Mi sembra L'hanno proprio tolto Ma cosa? L'arco Quello fiammeggiante Da arena Si sono scambiati I ruoli Foroxi Adesso è lei Che scappa in Messico Ma anche tanto Karen Perché? Teletubbies Teletubbies Fa No Ciao 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 Sto allargando Secondo voi Sono le tre ore di sfide O qualcosa che ha mangiato Gli ha fatto male No sei tu che hai voluto Prendere il Messicano Sei tu che hai scelto il panico Il panino non è il Messicano Non puoi prendere il panino Non puoi prendere il panino Dal Messicano No secondo me Perché ci serve il caffè Quello potente Quindi non dei caffè Dovrebbe costare 1500 Andrè No amore La skin che dice Andrea È quella che ha soldi E poi con le sfide Ti dà 1500 V-Bucks Non è che costa 1500 Secondo me costa anche 1500 V-Bucks Certo Sì Secondo me sì Andiamo a Pantano Pendenti Roxy Sta' tu buono No parlo di Teletubbies Su Fortnite Sì Andre Ma è un peccasoldi Tu non lo ascoltare Che già è rimbambito di suo Adesso è ancora più rimbambito Mi sono confuso Andrea Pensavo che 1500 V-Bucks fosse il costo Del Del pack E Nuovo video Un teletubbies Su Fortnite Mi perseguita Comunque penso Almeno penso Una quindicina di euro Quella di V-Bucks No quella mitraglietta Me la sarei voluta pigliare Io penso sì 19 euro O no 9 euro e 99 Forse Secondo me sui 15 È dato I 1500 V-Bucks Secondo me Costa Era 2000 euro Comunque Vuoi davvero il caffè? Ci stavo pensando Eh Però no Forse no Forse no E allora se te lo vai a fare Allora sì Non decaffeinato O vuoi il decaffeinato? Non decaffeinato Quale vuole Quindi ruffo Ogo Voglio il caffè Ogo Eh sì Esatto Karen Ma non mi ricordo Quanto cavolo era costata Quella? Quale? Mi da femmina Mi sa 4000 euro Io che le Le dico pure le cose Perché mi ha pingato? Ma perché? Ma perché? Ma si inventa i tasti Vabbè Sapete tutti come andrà a finire Però Qua Ah giusto Mi sa che era 11,99 Ma Mi son girato per leggere la chat In 5 hanno provato a scrivere Il prezzo di vita femmina Tutti diversi L'avete scritto Regà Sì No però mi sa che ha ragione Simo Mi sembra che era 11,99 Ok Quindi vabbè Avete scritto tutti un prezzo diverso Regà Eh non lo so Ma io mi sembro ho fatto la live Forse Recuperando la live Uno lo vede Non lo so Sì sì Quindi penso Quanto quella Sì 12,99 Più ha arrotondato a 15 nel dubbio Vado No regà vi giuro Era troppo divertente State attenti E non fatevi fregare Dal pad Sto giocando dal pad ragazzi O meglio Mi muovo con l'analogico del pad Ma sto sparando col mouse Cioè mi muovo e mi sposto con l'analogico del pad Però poi uso il mouse per sparare e fare cose È un mix Un nuovo stile per giocare Facciamo l'asta Tombola Tu ci scherzi Ma in America lo stanno facendo Vedi Vedi Ho previsto tutto L'analogico che si collega al pc E se lo mettono accantata da schiera Usano l'analogico per muoversi E il mouse per la schiera per giocare Ho previsto tutto allora Però mi sa che è contro le repiche Le regole di Epic Perché è contro le regole? Mi sa che è contro le regole Infatti molte hanno paura di essere bannate No, allora non lo faccio Io stavo scherzando Non è vero La prossima volta vi faccio anche lì Inquadratura sulle mani Anzi, sulle mano Iniziamo a parlare italiano E comunque pensavo che a pantano pendenti Ci venisse più gente Invece non c'è nessuno Quanto mi manca Pinnacoli palpitante Era un sciogno La live ha fatto una laggata assurda Questo penso sia YouTube però Perché io non sto laggando con Fortnite Quindi non dovrebbe essere la mia connessione Ma la safe? Vabbè Se può fare Ah, io ancora non ho ricambiato Le impostazioni grafiche Vabbè Allora, boh No, ragazzi Vedete che faccio? Mi sta andando sul cavolo Il tacc Sono già due volte che lo uso E non riesco a A farci nulla Sarò io che sbaglio Ma Addio Ma ci manca solo che qui da mouse e tastiera Abbiano la mira assistita Porca miseria Foroxy Ci manca solo Cioè già da mouse e tastiera Sei molto più preciso rispetto al callpad Ci manca solo che gli mettano l'automira Ragazzi Ragazzi L'ho fatto apposta Rimango col pompa E la mitraglietta Oh no Oh no Oh no Vabbè Ho capito Quel tetto è infame Il pompa a leva era divertente Però io non riuscivo mai a dittarci la gente Non riuscivo proprio ad usarlo Cioè inizialmente ci spaccavo qualsiasi cosa Andavo come un treno col pompa a leva Ma poi Ma dai Ma sto dentro dei cespugli Ma che volete Ah Contenti così Contenti Contenti Cucciolotti Che mi provano a pushare Maledetti Maledetti che non siete altri Non avete fatto anche sprega a tempo Materiali Colpi Rieccoci che Rieccoci che Dei lupi e te le tabis È vero Vengo bullizzato a lupi e te le tabis Non lo so Bartoli in realtà Non ne ho la più pallida idea Sinceramente Ma tra quanto scade Paparapapam Uh Trovo sempre sta pistola del cavolo nelle ceste Ma si può Ragazzi Ragazzi l'avete vista La mia bellissima tazzina Che mi ha regalato mamma L'avete vista? Ce l'ha anche Serena Con un Carlino che dorme Caffè Un po' la K Però andava scritto Uh lì c'è un lama Piripiripi C'erano tre scudi grandi Lo so regà Però Dei shieldini in realtà Vorrei continuare a portarli Il flopper pure Cara personcina Di cui non dico neanche il nome Attualmente sta lavorando Da me neanche gli avevo risposto Cioè ma che ancora nel 2021 Dobbiamo rispondere a quelli Che nelle live vengono a scrivere Vai a lavorare Ma veramente Senza fare nome ci sta Ah no ma neanche Che poi loro neanche lo sanno Quello che tu fai nella vita Perché banalmente potrebbe anche essere Una domenica pomeriggio No? E io magari in realtà In mezzo alla settimana Potrei fare un vero lavoro Tipo Grax Tipo Grax Esatto Che Grax passi a Youtube Che lavoro Esattamente Ma purtroppo Questo la gente Cioè io A sta gente non gli rispondo neanche Perché È gente che parla senza sapere E sta gente Non la merita La libertà di espressione Sarò cattivo Sarò esagerato Però quelli che parlano Senza ragionare Non la meritano La libertà di espressione Purtroppo E quindi io non gli rispondo neanche Perché faccio finta E non esistano E va bene Ma comunque Detto questo Siamo a 27 Io morirò come 26esimo Io invece sono dell'opinione Che quando certa gente È ignorante Lì va detto che è ignorante Ma sì Ma vivranno male Lasciali vivere male No ma guarda Ma a prescindere Cioè io non me la prendo neanche Cioè Allora Io sono molto Per la libertà di pensiero Che è un'altra cosa Rispetto alla libertà Di espressione Cioè se uno vuole pensare Che Fare video su youtube Fare live Dove ti pare Eccetera Non sia un lavoro Lo pensassero Cioè Non mi urta neanche A me mi urta Il fatto che C'è gente che parla Dando per scontato Che sa tutto È una cosa che mi manda Proprio in bestia Mi manda Come Come cosa Paraparapam Poi ma magari Non fosse un lavoro Non dovrei pagare le tasse Porca miseria Invece mi tocca pure Pagare le tasse E se un giorno Tutta sta gente Ci avrà dei contributi Purtroppo sarà anche Grazie a me Ciao Roberto Ma perché devi essere Sempre così aggressivo Con me Roberto Che vuol dire Come faccio ad impostare L'output del pc E string Sì Filippo No Gabri No Così tanta importanza No Voglia la darei Ma non entrano i colpi Cioè Non entrano i colpi Mi stai dicendo Che non entrano i colpi Bene Oh no Oh no Oh no Oh no Hanno fatto una bella domanda Cioè Ma poi ti danno la pensione Io l'imp Se la pago Perché la devo pagare Poi se la pensione Tra 50 anni O quando sarà Che posso andare in pensione La vedrò Non lo so Dipenderà dallo stato italiano Se lo stato italiano Se lo stato italiano Continuerà a fare Cavolate su cavolate No Ma che è tutti qua Oh Ma c'è una festa Non m'hanno invitato Ma a me ce l'ho ritrovato Vabbè raga Non ha insultato Gabri Io gli ho solo detto Ma non ha insultato nessuno Non ci credo eh Cioè Non ci stava a morire così Non c'è Ma ve fate Ma porca No ma infatti ragazzi Io penso che tutti noi Che siamo un po' più giovani La pensione credo Non la vedremo mai Cioè Purtroppo è È un dato di fatto Credo Ormai Che poi in realtà Io ve la potrei anche spiegare La situazione della pensione Ma è un discorso Talmente lungo E che non so Se riuscirei a trattare bene Che Meglio non parlarne Però diciamo Che siamo in una situazione Particolarmente grave In Italia Per quanto riguarda Le pensioni Mi basti sapere questo Quindi già non si trova al lavoro Chi Fortunatamente È riuscito ad averlo Come magari posso essere io Che ci pago pure le tasse Devo pagare L'ira di dio di tasse Tutto Tutto a posto Devo dire che Siamo messi molto bene Tutto quello che guadagno Deve andare a rifinire Nelle tasche dello stato Stato Che poi quando deve fare i lavori Davanti casa Sono Tre mesi Regà Sono tre mesi Che c'è un aiola Qui sotto casa Che è bellissima Che è tutta transennata Perché stanno facendo la pista ciclabile Ora non voglio parlare Della pista ciclabile Perché non me ne frega niente L'hanno voluta fare Va bene Ma falla Regà non potrei capire come L'hanno ridotto uno schifo Perché ovviamente Non vengono neanche più a tagliare l'erba Perché hanno messo le transenne Quindi sono tre mesi Che non vengono a tagliare l'erba E ci sono i lavori Cioè io veramente Ah della ciclabile Stavi parlando Sì 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 Della ciclabile E qui davanti casa Che c'è la viola Cioè regà Vi giuro Una cosa allucinante Però Che poi è davanti casa Dei tuoi Ah sì Vabbè Ormai parlo Davanti casa mia Però è davanti casa dei miei Cioè Regà Una roba Incredibile Sì Fabio Ora abbiamo La B5 Solo che ancora È nella scatola Eh regà Mi abbiamo tirato un bel headshot Ma Non muore Dai Ma quanti scillini c'ho Un esercito di scillini Ecco perché prima Si è triggerato Che non ha fatto lo spasso Non ha trovato Il problema risolto Vabbè regà Ma prima poi Tra tutti Quei push vari Eccetera Non Non ci arrivavo neanche A farmelo Scillini Simuleto Scillini Simuleto Guarda se mi entra Una hit Non è che chiedo Ma perché non riesco mai a finirli questi? Dai Dai Finalmente Sono riuscito a finire qualcuno Senza subire troppi danni Oh E che è successo? Miracolo Allora Questo non mi piace Quello non ce lo prendiamo A posto Let's go Let's go Let's go Let's go No non mi piace Il fanteria Raga Non mi piace proprio Lo schifo proprio Cioè poi a me Poi lo reputo L'assalto più forte del gioco Probabilmente Però a me non piace LTM in che senso L'output Se intendi quello dell'audio Nelle impostazioni Windows In basso a destra Le impostazioni audio Output Metti La scheda acquisizione Però devi avere la scheda acquisizione Attaccata al pc da gaming O viceversa Insomma Nel suo caso Da streaming Sì Con la stream Sì Comunque secondo me Se cerchi video Setup WPC Qualcosa la trovi anche Proprio in italiano Che te lo spieghi meglio Anche perché per me Così Senza farti vedere le cose Mi rimane abbastanza complicato Spiegartelo Eh raga Non mi piace il fanteria Cioè Non è che dico Che è scarso È che non Non mi ci trovo proprio Ci puoi provare Infernus Però io mi dissocio Fare? Oddio No Non lo so Infernus Non credo sia legale Poi informati Magari mi sbaglio io Tu informati Magari Infatti ho detto Ci puoi provare Ma mi dissocio Nooo Me l'hanno rubato Piango Piango io Sì Gabby Io lo sto Bevuto No ancora Non l'ho bevuto Un caffè freddo Eh il caffè freddo Lo so Ma io qui sto Giocando la partita Più importante Della mia vita Ma che voglio dire Il caffè freddo Dobbiamo provare A fare il ghiaccio Con sfrigo Ah si giusto No 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 Non so perché Ma ormai mi trovo Proprio meglio Col pompa del nonno Infatti mo Lo ricambio subito Non lo so perché Rega Ma ultimamente Così Oh ma ce la fai A non prendermi di continuo Le cose sbagliate Eh rega Purtroppo è così No no Questo che ha fatto Ha caduto Ha caduto Ha caduto Ha caduto Questo Questo ha caduto Ha caduto Ahia Questo ha sparato È sparato È sparato Sì Gabri In teoria Il frigo ci va Il ghiaccio L'acqua filtrata E Il ghiaccio Però Non l'abbiamo provato Ragazzi Ha fatto un bel giro Non ti ha preso Lo shieldone Rip Non è tanto Ma ci torno No però mi triggera Ci sei passato sopra No Bene Ce n'è un altro Ah Sono rimasti in due Sì Vaffan bene Va Oh E che cavolo E che l'abbiamo fatta A portarci a casa Una vittoria Non ce la facevo più Ragazzi Con quante kill Tra l'altro Cioè abbiamo fatto Anche una bella partita 8 kill Mica poche Ci siamo meritati Il caffettino Direi che ce lo siamo Meritato Ragazzi È stato più facile In arena oggi Ma veramente Ma ormai è diventato Più facile in arena Ragazzi Cioè è pazzesco Vabbè che io sto A bassi punti In realtà Perché poi ho giocato poco Però La modalità prestazioni Da console Non c'è Regà Ovviamente Anche e soprattutto Una partita del genere Nel negozio oggetti Il codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato L'avete lasciato Un bel mi piace Lo avete lasciato Un bel mi piace Ancora 4.000 like Doveva arrivare Iscrivetevi anche al canale Se ancora non è stato fatto Oh Perché poi tra l'altro Che era la seconda partita Che facciamo con sta corvina Rachele è rotto Con Rachele è rotto Quindi ragazzi Questo passo ci manca Soltanto questa Che in realtà Riusciremo a sbloccare Spero tipo Con la prossima partita Quanto ci manca? Veramente poco Ragazzi Vediamo se c'è una missione A fare al volo Crea armi Cerca consegne Rifornimento Abbatti gli alberi Quanti ne devo abbattere Usa falò Non ce n'è una Tipo che si può fare Al volo Caccia gli animali Selvatici Raccogli ossa Contuma banane Contuma mele Vabbè posso andare Lì alla cosa Ah è potenziare un'arma Io vorrei consumare banane Mi da un botto Andiamo in una normale Amore mi puoi portare Altra acqua Sto morendo Disidratato Oh mio dio Tieni anche la tazzina Rachele è rotta Più che altro Madonna E qua ci ha detto bene Che all'ultimo Non sono riusciti A laserarci per bene Perché se mi avessero Laserato per bene L'ha finita E da un secondo Che finisco anche Io di caffè Così forte Tranquilla Tranquilla Il fanteria è devastante Ma lo so Daniele Lo so che è devastante Il fanteria Mi sono dato un microfono In bocca Però Non piace a me Non mi ci trovo Che vi devo dire Eh la chat Roman Ce l'ho Ce l'ho Una qui Però purtroppo C'ho L'asta del microfono Che me la copre un po' Infatti Devo trovare Un nuovo metodo Oppure ce l'ho Qui a sinistra Però devo Completamente ruotare Il collo Eh Da lì Eh ci sto a pensare Pure io Così c'ho pure Il capo Che fa meno giri Ma no In realtà Guglielmo Devo ricambiare Le impostazioni grafiche Queste qua L'avevo messa Giusto per fare un video LTM Gli output Li gestisci Tutti Sulle impostazioni Audio del pc Poi sei tu Che devi decidere Il dispositivo Però se io Non so Che dispositivi Non so Aiutarti Ragazzi La modalità prestazioni Si può mettere Solo su pc Sulle console Non si può Non lo so Fino a che ora Saremo live Però credo Che tra un po' Stacchiamo Ragazzi Ah Dovevo andare Al frutteto Rip Vabbè Proviamo ad andare Tipo qui Cioè dovrebbero essere Cioè dovrei riuscire a trovare Tipo banane Roba un po' Così Eh sì No Il problema È che ormai Era troppo tardi Sia per gatto Che per la fattoria Ragazzi È chiuso un po' No Allora Il problema Il problema è che Cioè abbiamo fatto Pittoria reale Con 8 kill Comunque siamo saliti Poco poco Di livello Quindi Rip Qui c'è un po' Oh mio dio Ma dai Ma dai Come ha fatto a farmi tutto Sto danno Con quello Ma anche se era blu Regà Vabbè Metti i preparchi Pocca miseria Per mettere prestazioni Raga Nelle impostazioni Qui giù Qua Modalità di rendering Dovete mettere Tutta quella a destra E c'è scritto Prestazioni Alpha Che senso Infernus Il tac Può essere Devastante Sì assolutamente Però Era anche abbastanza Lontano Allora La modalità prestazioni Abbassa Notevolmente Le impostazioni Grafiche Ma ti Rende il gioco Più stabile Anche in fattore Degli FPS Quindi tutti quelli Che vogliono Competere O che comunque Vogliono giocare A buoni livelli Di Fortnite Le utilizzano Io in realtà Non le utilizzo Non me ne frega Niente Ma adesso Sta live Me la so fatta così Per colmare Tanto me ero Dimenticato di rimetterle Normali E dato che Quando cambi Le impostazioni Grafiche Purtroppo Per un paio Di partite Lagghi Perché il gioco Si deve un attimino Riabituare Alle nuove Impostazioni Ho deciso Appunto Di continuare Così Rip Esatto Esatto Dopo la vittoria Nel chilling Ok Rega dai Proviamo A Gattogrill È vero Non ci avevo pensato A Gattogrill Prima Beh sì Gli fps Li ho sparati A 360 Sinceramente Speravo Restassero Un po' più Fluidi Un po' più Come ti posso Eh? Sì Stabili Stabili In maniera parola Un po' più Compatti E stabili Però vabbè No Le prestazioni Non ci sono Da play Oddio no Del mondo Non credo Più fps Del mondo Non credo Oh no C'è gente Che sta Scendendo Qui Ma sei serio? Vabbè Vabbè Dai Proviamo A continuare Un attimo Con questo Allora Devo Consumare Banane E mele Purtroppo Banane Qua Non L'ho Trovate Banane Ma non Me le Da Cioè Non Me le Ha Date A meno Che non Le vedo Io Ora Mi devo Togliere Anche Un po' Un po' Di vita Per Ma dai Banane Vabbè Non ne mangio Altre Così almeno Andiamo a Consumare Banane Ciao Ciao Chica Come stai Tutto Bene No Guarda Non lo voglio Potenziare Uh Però Aspetta Mi prendo Le parti Meccaniche Te ne Compro Sei E mi Faccio Lo Spasso Mi Faccio Lo Spasso Mi Faccio Lo Spasso Che Bello Giocare Con Lo Spasso Però Girare La faccia Di qua Per leggere La chat Regà Non trovo Le banane Purtroppo Ma Possibile Meglio Giocare Da pc Ragazzi Certo Se il pc È un pc Relativamente Scrauso Quindi Non è proprio Così potente Allora Non lo so Però Se è un pc Decente È meglio Giocare da pc Ovviamente Avevamo Uno Qui Sotto Dove è andato Voleva Voleva Scascappare Ma Non Gliel'ho Permesso Le banane Le banane Inse Le banane Scomparse Altri 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 Passi Come non L'ho preso Scusate Raga No È scarico Edita Ciao Non trovo Le banane Sono più rare Di qualsiasi altro oggetto In questo momento Vediamo se dentro Il container magico Troviamo anche banana Oddio Lì giù non ho vista una Vi dico la verità Sì Ma i peperoncini Me li mangio Perché Perché sì Cocchetto No Perché tanto Mi sono fullato Oh raga Ma non ci stanno Banane Cioè ma Veramente Quante so Qui Due Eh me ne serve Un'altra Mi serve Un'altra Banana Ragazzi Oh dove la posso Andare a trovare Un'altra Banana Io C'erano le mele No raga Ma non me ne frega Niente delle mele Devo mangiare le banane Devo fare una missione Per mangiare le banane Non me ne frega Niente Gli altri frutti Ho delle altre cose Per curarmi Grazie Sofia Grazie Devo dire Ottima partita Quella lì è stata Eh Eri Però Più che altro C'ho paura Che poi Non arrivo In tempo Vabbè A parte C'ho Questo Eh Mo dove vado A cercare Che ha un po' Una banana Me ne serve Una C'è Me ne serve Anche una sola C'è uno 222 in Hs Raga Oh my gosh La notifica Recitava Che l'ho Fulminato Proprio L'ho Fulgorato Oh my gosh Raga Non pensavo Di essere Un robin hood Ragazzi Sono proprio Un robin hood Ciao Chico Tu le vendi Le banane No eh Non vendi banane Tu Mannaggia Che colpettino Che gli abbiamo Dato a questo Ragazzi Abbiamo fatto Proprio sentire La potenza Dell'arco Vabbè Ormai È andato Pentinaio E ormai Ah sapete dove Dal T-Rex Oh Vabbè Il livello L'abbiamo fatto Vabbè Ormai è diventata Questi video di morte Per fare Questa missione Vabbè Il livello L'abbiamo raggiunto Raga Quindi Vero Vero C'hai da ragione Vabbè Ormai diventa Questi video di morte Devo mangiare Sta banana Ero andata Di là A svuotare E riempire La lavatrice Purtroppo Quando si ha una casa Bisogna pensare Anche alla casa Io pensavo Che facesse Tutto da solo Invece poi Ho scoperto Che a casa da me Era mamma Che faceva le cose Ma non Non lo sapevo Mannaggia Le case Non si autogestiscono Si l'ho visto Il lama Cioè Per vedere L'iPhone viola Eccosi la risposta L'iPhone viola Tieni Allora Se morivo Per far vedere L'iPhone Toglievo il mod A Roman E tu ti andavi A fare Due nottate In albergo Andavi tu A dormire In albergo Allora Dove sono Gli avversari Che voglio Pushare Qualcuno Dove siete Brutti Avversari Passavi Brutti E cattivi Bam Venivo a far Di Quale Rivelazione Due giorni Da solo Sai come la ritrovavo Ah quella di casa Bartolino La ritrovavi un fiore Sì ma io voglio Pushare qualcuno Però eh Uh banana Niente Vabbè ho capito Niente Niente Banane Oh Fiamo scherzi Ma questo Vende ancora La fenditura Sì Regà Andiamo a pushare Non me l'attiva Non mi stava Attivando la fenditura Pushiamo 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 Pusham Ah sto allaggando Ecco perché Ottimo Vai pushiamo Adesso sto allaggando Dove sono Gli avversari Falco Tu vedi qualcosa No che è un falco Che cos'è Corvo Un corvo Direttamente Da Brawl Stars Uh qua c'è gente Le banane Sono dentro La cascina Si Shaddle Sono bannabili Cosa Fare cose Da mobile Tramite root Sono considerate Tipo H Comunque Roma Non le ho preso Anche Una povertura Una misera Ragazzi Non pensavo ci fosse così tanta gente Però Eh 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 Guarda 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 C'è comunque Alcuni mi rompe le scatola Ah ma come mai ti sei messo a fare una partita normale Eh perché volevo fare la missione E non la potevi fare Nella rima Eh vabbè però Ho detto magari Io faccio più tranquillo Nella partita normale Ho preso anche la cover viola Quello ti avevo detto Ma perché non riesco mai a fare il 200 in HS Cioè nemmeno a quello di prima Gli ho fatto 200 in HS Cioè vi rendete conto Quello lì che l'ho preso proprio da vicino In headshot Bello pulito Non riesco a fare il 200 in HS Con lo spassico E' proprio più forte di me Pensa Roman Che ho preso anche il capo Del microfono mio Non ci credo Le scale gialle Le scale gialle Maledette Maledette le scale gialle Oddio Sta cavolata delle scale gialle Che tu pensi di essere coperto Ma non lo sei Non me ne ero accorto Eh vabbè No Roman Nella parte 3 è un'altra cosa Maledetti Vai dai Equipaggiamo l'assassina della guglia Cattivissima Mi sono scordata di metterla Appena sono arrivata E la metto adesso Dai ragazzi Scandola Scandola Scale gialle Solo lo spasso oro Fa 200 Rip Rip Rotti Sì Serena è una viola dipendente No aspettate ragazzi Però facciamo Serena Dai Facciamo Serena Ah così Giusto per rimanere in tema Ma che cacchio di modalità metto Ma possono mettere la modalità epidemia Adesso Sì Angelo Ma perché le apro con il tasto dietro Eh me ne sono accorto che non fa più 200 lo spasso viola Regà Me ne sono accorto Esatto Roman Comunque raga Abbiamo finito Di sbloccare le skin E gli si Di questo pass Le abbiamo tutte No 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 Ma non l'ho messa La parte 3 Roma Non la metto Avevo fatto la foto Ma non l'ho messa Regà Mancano 78 like Anzi 68 like E 4000 mi piace Che facciamo Non ci arriviamo Quanto gold in questa assassina Mamma mia Mamma mia veramente Mamma mia regà Un sacco dolata Oggi non sono mai andato a brughiere Dai proviamo brughiere Proviamel Proviamel Non No, non iniziare a laggare adesso Mi ha fatto un paio di cose in ritardo No, buona come cosa Lo puoi dire Roman? Mi ha fatto questo schifetto No, a me piace E non sono neanche un amante dell'oro io L'oro come colore non mi fa impazzire Si perdono No, quella normale sicuramente è meglio Però a me piace Si perde il viola Ma neanche tanti Non si vede tantissimo Oh regà, no, vabbè Questo c'è C'è, vabbè Va bene Ma guarda Rino Minchino Rino minchino Alla tua Potenza Che gli devo fare a Rino ragazzi? A Rino un inchino Che gli devo fare? A Rino gli si fa un inchino Non è per niente Non è per niente Le notificative È vero? Rumo Da notare che c'è anche un'altra cosa Che ho impostato Viola in quella foto Rino minchino Esatto Esatto Hai ragione Mara Qua la cuffiamo Altrimenti Ah Piri piri pipipipipim Rimo è mio cugino Di sta streaming Sniperon Sono scritto Ah vabbè Ma sarà una cavolata Se lo ritrovi però Segnalazione Il green screen No regà Non penso di rimettere il green screen Non penso di rimettere il green screen Ragazzi perché Voglio cercare di crearmi uno sfondo carino E continuare così Vorrei eliminare il green screen Sì Roman C'è un po' spado anche la scheda audio Ma l'hanno dato subito Fatto cacca oggi Sì stamattina prima di andare in live Per fortuna Ragà quando ti viene cacca la mattina È una goduria Perché te la sei tolta Poi c'è stai una volta Che la fai più di una volta al giorno Eh però dipende pure da quello che te magni Tipo io che ho mangiato messicano Sicuro stasera mi toccherà andare al bagno Però Tanto Gigi ma io sono un maschio Te l'ho detto il tale di mia madre Eh lo so Eh lo so Eh lo so ragazzi Però quando c'è del nick Di vostra madre O vostro padre Eccetera Faccio fatica a ricordarmi di tutti Perché siete tanti Purtroppo che Hanno il nick Diverso dal proprio nome No Lily La dico più pulita Che discorsi di cacca Non l'ha detto Ci stava No no Roma Non l'ha detto perché stavano a parlare di cacca Nooo Si era già fullato il brutto Vabbè 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 Dai devo dire che qui l'assassina della guglia non è che ci abbia aiutato più di tanto eh Con Frank non credo torni la stagione 2 Di Fortnite Di questo secondo capitolo Non credo tornerà mai più Ma No vabbè no Non provo a mettere full cam Ho paura che si vedano cose Che si vede proviamo a mettere no si vede meglio lo scar nella deriva mi triggera però l'unica cosa che sposterei è lì la scatola dove ci stava l'asta dell'elgato no più che altro mi triggera che si vede il braccio del microfono così tanto si sono morbidissime sei del fazzoletto regà più che altro perché tra poco chiudiamo ragazzi tra poco chiudiamo perché sono di tessuto soprattutto cristian grazie mille per la donazione caro un bacione grazie per il supporto bella cristian il discorso qual è regà perché ci sto mettendo tanto a decidere cosa mettere come sfondo perché qui come vedete ho la parete che sta orizzontalmente diciamo così alla cam mentre questa dietro posso fare come voglio però vedendo cioè mettendo qualcosa qui io non posso mettere un mobile normale qui perché poi voi vedreste l'esterno del mobile cioè è un casino cioè non ho pensato neanche a sta cosa sarà un casino arredare sta stanza per renderlo godibile e soprattutto si vedrà parecchio quest'altro tavolo qui quindi praticamente io mi dovrò inventare qualcosa di carino da mettere qui in piedi quindi sto già vedendo magari qualche statuetta qualche cosa ho dato un calcio incredibile alla scrivania non lo so stranissimo vedere gg full cam sì perché qui su youtube non faccio mai quei momenti di just chatting un tempo li facevo un botto sull'altro sito però qui su youtube non mi viene mai da fare just chatting anche perché vabbè no che già eravamo 600 in live però diciamo che qua su youtube c'è meno la la filosofia del just chatting cioè se ti metti a fare just chatting è difficile la gente ti fili clip eh addirittura a fare la clip eh no infatti io quelle grandi io per quello non sopporto quelle grandi eh anche Bartoli la sera tardi queste non sono male cioè un po' calore lo fanno tutte perché vabbè per forza però questo essendo in tessuto proprio eh le mensole vero Claudia sì potrei fare direttamente le mensole non lo so mh non lo so sarà molto complicato anche perché in full cam si vede anche un po' quest'altra parete qui sarà un po' complicato arredarlo qui sarà molto complicato Cristian grazie ancora per la donazione ma sei un pazzo così in due minuti trenta euro un bacione Cri grazie per il cuore per il supporto eh le richieste d'amicizia non le mando su donazione però le richieste d'amicizia le mando col secondo account solo agli abbonati che poi fanno una serie di processi e di procedimenti più che altro su discord comunque grazie mille Cristian grazie mille dovresti dipingerci qualcosa ma lo sai che ci ho pensato a dipingere le pareti però sai qual è il problema è che per l'audio è meglio avere una stanza piena perché l'audio si propaga meno nella stanza è un po' un po' macello dipingere non aiuta secondo me ci starebbero bene quei mobiletti che abbiamo visto che sono sotto sportelli e sopra tutte le mensole a cubotto eh no però se sono quelle a cubotto poi noi vediamo l'esterno qui se c'è deve essere qualcosa deve essere trasparente si deve vedere quello che c'è dentro e mettere qualcosa verso di qua non sarà facile lì c'è le vetrinette stavo fatto vedere o le mensole o le mensole o oddio chi è che prima diceva delle mensole effettivamente mi sono perso in chat anche io se vuoi te lo mando su instagram no mi sono perso oddio chi è che aveva scritto le mensole mi sono perso chi aveva scritto delle mensole rip lo volevo ricitare e e niente sì qua sicuramente metteremo tipo un mobile di quelli a cubotti Claudia sì le mensole non è brutta come idea assolutamente non sono male le mensole bisogna però bisogna studiarsele bene le dovremmo comprare che cazzo eh no i funko pop non ce l'ho anche perché pure questo non è un funko pop io e i miei ma non ce ne dicono niente loro dicono quello di Fortnite e beh certo potresti mettere anche il pupazzetto di Spike sì il pupazzetto di Spike sì anche il peluche sì no le cuffie Apple no non addio Gabri ce l'ho ce l'ho qui è solo che mi dimentico sempre di tirarle fuori tra l'altro devo ancora capire se riuscirò ad utilizzarle in wireless anche se non penso ok e da qui al muro quindi da qui al muro però mi devo vedere perché sennò non so se vi indico bene le cose da qui al muro c'è poco spazio quindi ipoteticamente io potrei sta laggando sta laggando la live non so se sia YouTube penso sia YouTube perché no sì eh fermo un ringraziamento a YouTube no raga comunque YouTube mi ha proprio rotto le scatole YouTube raga mi ha proprio rotto le scatole è ancora ferma eh ma sono loro infatti errore di riproduzione allucinante vabbè lo schifo è tornata è tornata no raga ma io non la faccio più così però eh ha laggato YouTube raga come al solito allucinante sì sì ha laggato una cifra niente non mi sembrava vero che sta a fa just chatting con 400 persone live su YouTube ci si mette ci si mette YouTube pazzesco stavo dicendo eh ricomincio un attino il discorso vabbè alcuni sono tornati che secondo me hanno ricaricato la live sì probabile allora praticamente regà il tavolo arriva fino a qui ok e quindi calcolate che poi non c'è troppo spazio fino al muro quindi io stavo pensando di fare una cosa del genere dicono che sentono il ritorno della voce da te lo sentono mi sa da me ma io te ti ho staccato proprio prova 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 ma come l'ego eh no si risente per forza da te amore eh scusa che mi sei resettato ma è l'ego della live come cacchio avete fatto fino ad adesso a non sentirlo l'ego della live adesso si sente ancora ma si sentiva tanto in ritardo mi sa che era l'ego della live avevo la live aperta ma ma ce l'avevo aperta da due ore come avete fatto a sentirlo solo adesso vabbè stavo dicendo se ce la facciamo qui vediamo se arriva la mitica asta si tipo fino a qua mobile quindi qui mobile tecnicamente che sta proprio dietro a me qui dei led diciamo che però calcolate che i led tipo con la versione di fortnite li vedrete tipo solo qui quindi è un po' quello il problema cioè che io devo riuscire ad arredare la stanza in modo tale che quando c'ho la full cam quando c'ho brawl stars quando c'ho fortnite quando c'ho altri giochi attivi sia sempre godibile perché per esempio io quando gioco a fortnite sto qui ma quando gioco a brawl stars sto più qua mo non vi spiego il perché è una questione di comodità però quando gioco a brawl stars sto più di qua quindi devo trovare il modo di impostare lo sfondo che sia godibile in ogni sua versione tra virgolette quindi sarà un macello sarà un po' un po' un macello ragazzi però la cosa più difficile sarà sicuramente sta parete qua e anche questa qui sarà un po' un casino più che altro io volevo fare anche l'illuminazione figa al buio cioè tipo tutto al buio senza luci e con i led tutti intorno però quella penso sia un po' complicata da fare ormai dovresti mettere le lucette attorno al mobile le lucette attorno al mobile ma poi soprattutto dovrei fare una cosa ah lì c'è la presa le puoi mettere no no però aspetta tipo abbassare la luce tantissimo cioè tenere comunque qualcosa di acceso che un minimo mi illumini e poi avere le cose però vabbè ora adesso ho abbassato le luci che ho mi sembra fossero a 44 se non sbaglio ok e niente 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 raga questo è tutto Michele in realtà prima di venire a vivere qui praticamente abbiamo convissuto un anno e mezzo a casa dei suoi si praticamente siamo stati un anno e mezzo a casa dei miei eh si potrei riempire sta parete con le lucine però secondo me almeno qualche mensola per metterci magari ci posso mettere le mensole adesso sei più chiaro di prima mi sa che le hai messo le ho messe più forti così così ci sta e niente poi tra l'altro raga ho comprato un obiettivo pazzesco che è allucinante veramente una figata pazzesca ma il problema è che tipo mi riprenderebbe solo la faccia per quanto è per quanto zoom è fighissimo è fighissimo però devo trovare il modo di usarlo dovrei trovare il modo di usarlo comunque raga in sti giorni stavo molto riflettendo sulle live perché a me piacerebbe iniziare a portare più live però il problema è che cioè vorrei iniziare a portare anche più live di brawl di altra roba però non so come incastrarle perché tipo se io stasera volessi fare brawl in live a Roma non mi ha fatto pensare che lì ci può attaccare tutti i button anche sì pure i button dobbiamo attaccare sì che spero di averne tre entro alla fine dell'anno ovvero quello del milione ma non lo so no comunque regà il problema vero ragazzi è che non so come incastrare cioè per esempio noi devo fare ancora la championship di brawl prima mentre giocavo a fortnite stavo ragionando se farla in live se fare solo un video e sinceramente nella mia testa vinceva il fatto di farla in live e adesso sarebbe stato il top staccare fortnite e prendere brawl ma io adesso per prendere brawl dovrei staccare questa live e riattaccarla sul primo canale è un casino è un casino e quindi voi direte ma allora spostati sul sito viola per spostarmi sul sito viola dato che ho già fatto esperienze sul sito viola dovrei streamare per essere competitivo tra virgolette e fare effettivamente dei numeri almeno 3-4 ore al giorno ma minimo minimo perché poi ovviamente raga essendo anche un lavoro per me devo anche pensare a quello inevitabilmente e non lo so attualmente se riuscirei a fare tutte quelle ore di streaming quindi in realtà per me la situazione con youtube sarebbe perfetta perché io faccio dei giorni live dei giorni video dei giorni live e video me li incastro come voglio faccio le 2-3 live settimanali ok però è un po' macello un po' macello ma chi se ne frega roberto ma ancora mannaggia lo so Bartolino è quello che le dico anch'io Bartolino che lui ha sta fissa che va per forza 8 ore non è che c'ho per forza sta fissa che devo fare per forza 8 ore è che c'è chi ne fa di meno e comunque è fidelizzato non devi per forza farne così tante ma per i gameplay è diverso no no chi fa gameplay anche ho visto c'è chi anche ha 2 ore fissa al giorno da 8 ore a 8 ore tipo che so dalle 4 alle 6 e poi chiude però il problema è che a me quelle 2 ore giornaliere moltiplicate e sommate per tutto quello che faccio durante il mese devono andarmi a giustificare le assenze delle live su youtube cioè attualmente su questo secondo canale cioè le uniche cose che mi fanno fare i numeri sono le live cioè quindi io andrei tra virgolette a togliere una potenza al secondo canale che è questo qui di fortnite perché perché le live degli aggiornamenti le live degli eventi spaccano comunque ancora oddio delle patch ultimamente no neanche troppo se gira l'inquadratura leggermente verso l'altro lato vedete la finestra quindi non dire dico che non è bello si no no verso di qua calcolate ragazzi che non vedete la finestra pertanto così si anche anche lo so Lili lo so però vabbè io ovviamente a quei livelli non ci potrei arrivare perché comunque con i canali youtube non ci riuscirei perché il top sarebbe streammare di là e riuscire anche a registrare qualcosa direttamente in live anch'io Simo lo faccio anch'io ma Bartolino non è neanche tanto quello io non so non so neanche se provare proprio a richiedere di togliere la partner andare come affiliato e allora farmi quelle due orette da affiliato e chi se ne frega è complicato però vedi eh lo so lo so che è complicato lo so che è complicato però boh non lo so è un po' complicato abbastanza complicato dall'altro lato girata verso di qua no regà perché girata verso di qua poi vedreste tutta l'altra scrivania che non è carina da vedere si ma pensa che adesso fanno ci ho pensato Bartolino gli specchi smart che hanno gli speaker integrati pensa che figo sentire mentre me la doccia mi metto una piscinetta qua Bartolì la fotocamera abbassata verso di me mamma mia quella cringe che abbiamo visto ieri madonna no no ma la camera va bene raga secondo me bisogna soltanto attrezzare bene lo sfondo però ribadisco il problema vero è che ho un'inquadratura per ogni gioco che porto cioè su Brawl Stars sto un po' più di qua con Fortnite sto un po' più di là quindi tipo quelli che mi seguono su Brawl Stars vedranno di più i led di qua quelli che mi seguiranno come magari la maggior parte di voi di più su Fortnite vedranno di più lo scaffale di qua quindi rischio che magari quando vado in live su un gioco o su un altro dicono oddio Gigi ma che hai cambiato lo sfondo che va bene non me ne frega niente perché non è che cambia nulla però un po' mi triggera come mi triggera da morire il fatto che vediate il coso qui mi triggera da morire sta cosa non mi stupisce Bartolino non mi stupisce mamma mia che tristezza che tristezza allora ma tra l'altro parlando anche del fatto delle donazioni eccetera la cosa un po' triste delle live sia su youtube ma in realtà anche sull'altro sito vai a vedere alla fine della fiera è così è che purtroppo senza donazioni e senza gli abbonamenti non voglio dire che è come non lavorare ma si va a guadagnare pochissimo con le live senza il supporto della chat ed è un po' triste come cosa è anche un po' il motivo per cui inizialmente non volevo spingere troppo con con le live perché lo vedete io addirittura in live vi dico anche di non donare cioè figuratevi no vi spammo sì l'abbonamento ma perché l'abbonamento vi dà poi effettivamente dei vantaggi e addirittura l'ho messo a 1,99 euro che vi dico di quell'euro e 99 netto comprese tasse e percentuali civili a youtube penso che non mi entri neanche un euro però ecco no il problema è anche quello lì di là ormai è pieno di gente così sì 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 in just chatting ma raga io veramente cioè io potrei stare le ore in just chatting è una cosa che mi piace da morire perché mi piace da morire parlare è di tutto cioè penso che possiate aprire qualsiasi tipo di argomento e o sto qui a fare domande a voi o sto qui a parlarne gabrie il problema è che per contratto partner dell'altro sito se tu fai live sull'altro sito non le puoi fare qua sì se sei partner infatti per quello io volevo fare richiesta per essere solo affiliato ma è una cosa difficile da ottenere cioè io sono già partner di là però è difficile da ottenere l'affiliazione sì no sta diventando abbastanza particolare l'altro sito devo dire la verità ma poi il periodo in cui stavo spingendo molto con le live su youtube avevo fatto un grosso pensierino a spostarmi di là perché dico beh tanto ormai streamo 3-4 volte questa settimana posso spostarmi di là però era anche il periodo in cui di là iniziavano a bannare le parole e paradossalmente si sono invertite le cose cioè adesso sei più libero di parlare su youtube piuttosto che di là eh cioè di là per ogni cosa rischi il ban rischi di essere bloccato se mi sei confuso Bartolino intende che ora che ho la partner è difficile farsela togliere esatto adesso che ho la partner è difficile da farmela perché in realtà io potrei fare richiesta per farmela togliere capito Bartolino è un po' un discorso un po' particolare sì e adesso paradossalmente è diventato un sito un po' particolare sì si devo mettere no voglio vedere se le piscinette funzionano su youtube sarò il primo a portare le piscinette qui su youtube spaccherei da dove spaccherei è 4000 like oh my gosh 4000 like e non siamo ancora 40 in live siamo ancora 370 incredibile pensavo fossimo in 40 mi posso alzare 5 minuti o rischio che mi alzo e tu godi vabbè dai 5 minuti li aspetto pure se diventiamo 20 ah dici Bart attira di più un piscina con Pandora è vero è vero è vero potrei fare direttamente con Pandorina vogliamo più live così ma lo sai qual è il problema Sofì è che pure a me piacerebbe fare più live così però e di là le facevo di là pure se c'era il calo di youtube di spettatori lo facevo però cioè qui su youtube ho noto proprio che c'è un'altra cultura non c'è la cultura delle live e nel momento in cui stava nascendo la cultura delle live youtube ha fatto un paio di aggiornamenti con cui ha ammazzato completamente le live oh non c'è più nessuno che strega pure se vi faccio i nomi non me ne frega nulla voglio dove cacchio l'ho messo il telefono ah sotto il controller cioè io adesso cerco la gente che attualmente sta in live con fortnite su youtube ah cerco fortnite metto live voglio vedere non me ne frega niente di voglio vedere allora dal video allora uno cioè di italiano c'è solo ferro oltre a me in questo momento in live che sta giocando a fortnite no ok ce n'è un altro più piccolino gli altri sono tutti inglesi cioè ci sono meno di 5 persone in Italia che attualmente stanno streamando fortnite ed è domenica pomeriggio cioè potete ben capire cioè ormai non è più una piattaforma per streammare non so come dirvi cioè sta peggiorando la cosa io sinceramente a un certo punto youtube ha fatto 2-3 aggiornamenti spettacolari per chi streama hanno iniziato ad aggiungere delle cose allucinanti per chi streama era il periodo in cui volevano fare concorrenza a twitch poi non lo so perché di punto in bianco si sono fermati con gli aggiornamenti pro live e addirittura gli ultimi aggiornamenti hanno anche tolto delle cose che avevano già messo per le live e la gente fa bene a non streammare più qui su youtube e si sposta di là perché ormai le live hanno una maria di problemi si baggano si stoppano da sole laggano c'è stato un periodo dove Serena non c'era neanche più il mod perché non riuscivano non ce l'è ancora? da quell'account no io sto usando l'altro account sta usando l'altro account cioè una cosa allucinante ragazzi e il problema è che non so veramente a cosa voglia puntare youtube cioè perché comunque alcuni aggiornamenti dove aggiungono cose le fanno cioè per esempio hanno aggiunto la possibilità di fare i ride e e di andare a ostare gente ok l'altro giorno anche ciao stato un ragazzo ringrazio ancora ma che l'aggiungi a fare un'impostazione del genere come il ride o come ostare un'altra persona quindi che cosa vuol dire? vuol dire che tu stacchi la live e trasporti il tuo pubblico sulla live di un'altra persona una cosa è per esempio su twitch si fa molto penso vabbè molti voi lo conoscono che cosa l'hanno aggiunta su youtube ma se non streama nessuno ci sono 20 persone in tutto il mondo che in questo momento stanno streamando fortnite ma che l'aggiungi a fare? ma metti qualcosa per far mmm che ne so per fare appunto live su youtube aggiungi qualcosa ma sì no vabbè bartolino ma chi se ne prega però in games era più utile mettere l'opzione per regalare gli abbonamenti a sto punto sì l'opzione per regalare gli abbonamenti raga cioè è una delle cose che va di più di là cioè boh 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 tra l'altro tra l'altro prima su youtube se tipo un abbonato donava ok mettete caso cioè no vi faccio degli esempi concreti tipo robie o gabrie che anche se sono abbonati spesso donano prima non ti faceva vedere il badge dell'abbonamento nelle donazioni non te lo faceva vedere quindi ogni volta che qualcuno donava dovevo ricordarmi che era un abbonato ma spesso e volentieri cosa accadeva che uno che si era abbonato tipo il giorno prima e tipo il giorno dopo arriva e dona e quindi io non mi ricordo che si era abbonato gli dico no ma caro ma non donare abbonati ma magari era già abbonato ma io non me lo ricordavo e non lo potevo vedere di questo ne ho parlato una volta con youtube in un incontro a milano che ogni tanto fanno oddio lo facevano prima che arrivasse la pandemia quindi parliamo di due anni fa circa in questo incontro c'era anche una persona che si che gestisce diciamo un po' anche il lato live di youtube e gliene ho parlato gli ho detto guarda c'è sto problema non lo donano è se l'è scritto su un foglietto la settimana dopo c'è stato l'aggiornamento con cui è stata aggiunta sta cosa e la mia paura è che proprio non ci pensano a delle cose talmente banali che sinceramente liberi mi aveva un po' spaventato come cosa ma parliamo del fatto anche che hanno rimosso che quando passavi sul badge ti dicevi mesi di abbonamento e l'hanno rimosso è vero è vero è vero no non è che mi son sentito potentissimo è che da una parte mi son sentito un po' più sicuro perché dico ah ma allora hanno intenzione di mettere qualcosa per migliorare la situazione live streaming su youtube ma poi da lì più nulla ma la cosa che mi spaventa attualmente è che stanno aggiungendo delle cose inutili per le live streaming su youtube come lost che ribadisco il ride su youtube non ha senso perché streama talmente poca gente che non ha senso aggiungere una cosa del genere perlomeno adesso e poi come feature è anche interessante ma adesso non ha senso la cosa che mi spaventa è che stanno togliendo cose cioè come se volessero stanno dicendo che non si vede neanche adesso che l'hanno tolta di nuovo questa cosa si si l'hanno tolta non si vede no 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 quando donate se siete abbonati si vede no 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 quando donate si vede cabri come no io le vedo anche bartolino diceva che non si vede e raga aspetta posso vedere adesso perché non ti posso vedere l'attività degli spettatori in chat forse ah no che ovviamente è buggato allora noi oggi ragazzi abbiamo ricevuto 4 abbonamenti e 44 euro di donazioni circa suddivise in 6-7 donazioni diverse io vado su attività dei no ha ragione guarda gabri ha donato degli spettatori gabri ha donato non si vede oddio è vero non si vede anche lì niente no ragazzi però siete demonelli vi ho detto che lo potevo vedere io ma porca miseria ma siete demonelli siete hanno tolto il badge ma sono matti no sono matti voi siete più matti di quelli di youtube signori di youtube abbiamo gente più matta di voi qui su in chat cioè ragazzi io non so neanche come ringraziarvi cioè mi sento proprio un inetto in confronto cioè un bacione gabri grazie mille e grazie anche a te lili cuoricioni ragazzi grazie mille non so come ringraziarvi no vabbè ragazzi allucinante ma come l'hanno tolta ma come l'hanno tolta sì non ho gli alerts fede perché non voglio spronare a donare in alcun modo cioè se uno deve donare o abbonarsi è perché vuole supportare il canale non perché vuole vedere cose che compaiono a schermo ma a parte quello allora praticamente io nella dashboard della live di youtube ho uno spazio che si chiama attività degli spettatori e io potenzialmente da questo spazio posso vedere tutte le donazioni e gli abbonamenti e andarle a ricontrollare ora adesso quella di lili e di gabri me le fa vedere perché le hanno appena fatte le altre non me le fa più vedere si bugga cioè tanto perché voi magari vedete i bug quelli più grossi quindi tipo la live che si blocca serena che perde il mod altra gente perde il mod probabilmente allora pure marina non c'è ancora il mod roman che non gli passano neanche roman che non gli passano più messaggi cioè ragazzi roman tralasciando il fatto che è stato uno dei ragazzi più presenti nelle ultime live e quindi comunque se ne è meritato il mod noi tempo fa l'abbiamo fatto principalmente per fargli scrivere perché sennò sto poraccio stava tutti i giorni live e non poteva scrivere diciamo che abbiamo anticipato i tempi abbiamo anticipato i tempi per farlo scrivere no perché sennò youtube gli bloccava i messaggi era youtube gli bloccava i messaggi a caso a caso quindi voi questi bug un po' più importanti e visibili li vedete ma in realtà io vi dico da youtuber che ci sono una marea di bug in più che voi non vedete per carità pure sull'altro sito pure sull'altro sito ce ne stanno dei bug non così ma ce ne stanno e cioè io potrei vedere tranquillamente che poi alcune feature youtube le ha pure e che poi non funzionano cioè l'attività degli spettatori è spettacolare perché io da lì poi posso ricontrollare quanto ha donato quello se mi sono perso delle donazioni è perfetta e tutta un'altra serie di cose ma è buggato ma è buggato da sempre comunque cook youtube secondo me lo fa apposta ma vuole perdere gente che stream io ho notato vedendo anche un po' in giro la situazione che il sito viola spesso ha problemi di connessione cioè tante volte ho notato che li capita però tipo quando va in sovraccarico che ha tanta gente eh sì però è un problema cioè è un problema cioè non puoi permetterti una cosa del genere e quindi boh regà cioè un po' un po' particolare ci ho messo meno di guido quando ha cambiato è vero non lo so non lo so regà è un po' no 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 Foroxy stanno stanno in guerra che tu non immagini cioè sono un competitor non si metteranno mai a firmare dei contratti o delle cose sarebbe una figata pazzesca eh perché se unissero le forze sarebbe una figata pazzesca però non lo faranno mai per questioni di interessi cioè da una parte cioè youtube è di google cioè uno dei colossi più grossi del mondo dall'altra parte c'è amazon che è il colosso più grosso del mondo non farà non gli interessa fare degli accordi tra loro che cacchio gli frega ma un bel talk show oggi ma dove lo faccio però cioè sul primo canale non me lo filerebbe nessuno perché in questo momento il mio primo canale sembra morto cioè tipo la landa desolata qui sinceramente io vorrei portare unicamente fortnite vi dico la verità non mi andrebbe di portare dei contenuti del genere su questo canale lo voglio infatti vi dico che mi sto divertendo un botto a parlare così con voi in chat ma mi sto anche triggerando da morire perché questo canale lo vorrei lasciare proprio interamente fortnite senza parlare di nessun altro tipo di contenuto non è un bug francesco è un aggiornamento che hanno fatto da mobile per non consumare internet devi cambiare le impostazioni dalla live si ragazzi comunque l'abbiamo sbloccato lo stile di corvino lo faccio vedere per quelli che stanno entrando adesso mette di default la live con meno qualità per quello tu vedi sfocato non è sfocato è di meno qualità cambia le impostazioni e rivedi come prima eccola e niente fai gg3 con minecraft ma allora raga spoiler in realtà un terzo canale ce l'ho già pensato ma non di videogiochi ma sì sì lo so Gabri che è bellissimo però il problema è sempre quello allora vorrei stare troppo in là nell'inquadratura però ah vabbè no giusto perché ho spostato su fortnite ok cioè un'altra cosa che penso è che in questo momento youtube non aiuta quei canali che vogliono variare cioè secondo me in questo momento youtube ha un algoritmo che se un canale va bene lo spinge tantissimo cioè se io iniziassi a fare tante visualizzazioni youtube mi aiuterebbe in una maniera pazzesca il problema qual è il problema è che con un algoritmo del genere se tu hai un canale verticale su un singolo contenuto vai ma se tu hai un canale con svariati contenuti quindi già già anche sempre di videogiochi ma con giochi diversi e questo è il motivo per cui ho aperto un secondo canale e non ho portato fortnite sul primo cioè se io avessi portato fortnite sul primo canale ok e sapete qui c'è stato un periodo con fortnite dove facevo due trecentomila visualizzazioni a video perché sempre perché c'è l'algoritmo che spingeva il mio canale perché stava andando forte solo con fortnite se io avessi portato fortnite sul primo canale io sono convinto al mille per mille che adesso magari sarei stato anche un milione di iscritti ma non avrei mai fatto i numeri che ho fatto con questo secondo canale perché perché nel momento in cui tu porti più contenuti mettiamo caso che porto contenuti di fortnite brawl stars e minecraft fortnite mi fa cinquantamila visualizzazioni brawl stars mi fa ventimila visualizzazioni e minecraft me ne fa centomila sto buttando numeri a caso porto minecraft il lunedì centomila visualizzazioni porto fortnite il martedì cinquantamila visualizzazioni porto brawl stars il mercoledì ventimila visualizzazioni se io il giovedì riporto minecraft io sono convinto al mille per mille che per come è settato adesso l'algoritmo di youtube non dico che me lo ammazza ma lo spamma poco perché dice ah vedi però adesso questo canale ha portato fortnite brawl stars boh non lo so se i suoi iscritti sono interessati a minecraft e quindi magari rischio di fare meno visualizzazioni di quello che meriterebbe di quel video poi io sono anche convinto che comunque se porti dei video che meritano vanno cioè tu puoi portare anche i contenuti più diversi in assoluto sul tuo canale se porti i video interessanti te li guardano il problema è che è difficile portare tutti i giorni un video interessante quindi è un po' quello il problema ciao Sofì è quello il problema vero ciao Sofì buona buona serata cioè e anche le live no? cioè io per esempio sul primo canale ho un po' di tempo che vorrei iniziare un attimino a variare però poi noto che appena porto dei giochi diversi mi riammazzano Brawl Stars cioè tipo io adesso in questo periodo mi sto riconcentrando a portare solo Brawl e sto ricominciando a portare un video il giorno di Brawl per vedere se sul primo canale riportando di nuovo solo Brawl mi rialza le visualizzazioni ciao Gabri sto un attimino facendo sti sti tentativi insomma ciao Gabri buona serata anche a te e perché perché questa cosa perché il periodo in cui avevo cominciato a portare Among Us Brawl mi è tipo morto cioè ho iniziato era un periodo in cui Brawl andava comunque ancora abbastanza bene ho iniziato a portare Among Us Brawl morto cioè come se ormai YouTube non mandasse più i miei video di Brawl tra i consigliati dei miei iscritti che seguivano Brawl quindi io in questo momento c'ho seriamente paura a variare contenuti su YouTube perché c'ho paura di ammazzare quei contenuti che bene o male mi vanno come per esempio adesso Fortnite cioè c'ho una paura io in questo momento di continuare a portare roba diversa rispetto a Fortnite su questo secondo canale che è un casino in realtà c'ho pensato anche a quella roba Bartoli a fare una sorta di GG Rewind però più che fare un GG Rewind mi metterei proprio lì a registrare i video cioè capito mi metterei proprio lì a registrare i video e anzi in realtà vorrei proprio organizzarmi perché è un po' di tempo che mi sta aiutando un video editor c'è un ragazzo che mi sta aiutando ad editare i video anche perché sto periodo col traslogo non ce l'avrei mai fatta se no da solo e quindi sto accogliendo anche proprio l'occasione per iniziare ad avere fisso un video editor in realtà Bartoli mi vorrei organizzare che tipo io in live registro mentre sono in live carico i video a lui e sarebbe il top avere subito la roba fai short sì gli short pure l'ho già visti però è un casino sono in America aiutano e sono ben indicizzati perché da noi ancora non c'è proprio la funzione esatto in questo momento non c'è ancora la funzione shorts Mario considera che un mesetto fa youtube ci ha mandato un email penso a molti youtuber italiani non lo so comunque a me è arrivata dove ci dicevano ragazzi non è ancora uscita la funzione short qui in Italia però vi consigliamo di provarla mettete l'hashtag shorts caricatela in quella risoluzione e vediamo come va però boh non mi fa impazzire una cosa cioè aspetto che esce non mi va di farlo adesso come prova si roman tipo in beta ce l'hanno in beta gli americani americani e indiani in India e in America ci sta negli altri paesi puoi solo caricare dei mini video con l'hashtag quindi è diverso dipende Bartoli dipende in realtà quelli di brawl stars ci metto molto poco anche perché comunque i miei video sono semplici però per esempio quelli di fortnite soprattutto le gg news mi tolgono parecchio tempo perché poi devo mettere l'immagine quello già c'è un po' più di lavoro però mi toglie parecchio ma guarda più che a livello di tempo mi toglie molto lavoro mentale cioè mi è capitato spesso di mandare un video al mio video editor pur essendo io libero e magari potevo editarlo ma almeno sono stato tranquillo e mi sono rilassato cioè stavo a diventare matto con due canali quindi è un po' così ma allora i tipoc comunque i players one console infatti fino a due anni fa riuscirono a portare fortnite minecraft gta e tutta un'altra serie di giochi e facevano 3-400 mila visualizzazioni se non di più con tutti i giochi stavano spaccando ma beh tuttora spaccano sono tra i canali più importanti in italia sicuramente però adesso anche loro stanno a far fatica portando più giochi cioè tutti i canali che stanno cercando di variare i videogiochi stanno facendo fatica è quello il problema ragazzi ed è quello che mi spaventa a provare a portare nuovi giochi perché ok che magari portando più nuovi giochi posso cercare di allargare la mia fetta di pubblico ma allo stesso tempo se io per esempio con fortnite attualmente faccio una media di 30-40 mila visualizzazioni se io domani provassi a portare COD che è il gioco un po' più simile mi viene in mente da poter portare qui sul secondario di fortnite e magari COD mi inizia a fare 20-30 mila visualizzazioni io sono sicuro che anche fortnite mi calerebbe a 20-30 mila visualizzazioni è un po' un po' un problema ciao simona buona serata buon pisolino è un po' quello il fatto ma lion ragazzi lion parliamo di un canale che cioè lion ha un canale allucinante cioè lion ormai ha creato un vero e proprio show che la gente si guarda perché è lion cioè lion è il numero uno in Italia fa numeri degli americani cioè fa numeri che anche in America gli invidierebbero tranquillamente cioè lion ragazzi è il meglio che uno possa pensare poi molti pensano che lion sia seguito solo da ragazzini ma secondo me non è vero lion secondo me perché comunque non usa un linguaggio proprio prettamente per i ragazzini ogni tanto usa anche parole forti e cioè lui ha tirato proprio su uno show vabbè martex è un canale simile al mio del cioè simile al mio questo qui di fortnite porta solo fortnite fa live di fortnite no rimasta non ne so guarda ma rimasta la parola bloccata l'altra volta che stavano spammati non lo so Ale però credo che tra poco chiudiamo penso altri 5 minuti che chiudiamo ciao Yassin e quindi boh cioè io sto vedendo che i canali di gaming sono veramente pochi quelli che riescono a variare e fare un po' di visualizzazione ma anche Grax raga porta Brawl Stars ogni tanto qualche altro gioco Supercell stop ha provato a portare un po' Smash Legends quando ha creato Hype stop cioè raga non mi fate esempi di canali che portano verticalmente un singolo gioco lo stiamo dicendo adesso che quei canali che portano verticalmente un singolo gioco in questo momento vengono supportati dall'algoritmo infatti ragazzi se vedete cioè anche io posso farvi l'esempio sui miei sui miei due canali Mattizia è un altro che bene o male riesce a portare svariati giochi tutti insieme cioè lui è riuscito a incastrare un Minecraft con un Among Us ogni tanto butta fuori quel video di Fortnite ogni tanto ributta fuori pure quel video di Brawl e riesce ad andare però anche lui c'ha ogni tanto qualche calo vabbè quello è normale Mike Shosha non ne parliamo raga perché lui è nato come canale misto lui è nato con i Waltruin diciamo che di tutto quello di cui noi stiamo parlando in questo momento dobbiamo fare un'altra suddivisione dei canali Mike Shosha che secondo me è il canale praticamente più fidelizzato in Italia perché porta anche contenuti al di fuori del gameplay è fidelizzato però Mike Shosha è uno di quei classici canali che su YouTube Italia c'è da sempre quindi lui c'ha proprio quello zoccolo duro di pubblico che lo segue e lo seguirà sempre che per carità non sto dicendo che beato lui che ha iniziato agli inizi solo per quello fa quei numeri assolutamente lui è riuscito a mantenere il pubblico andando avanti personalmente sono anni che tipo quando esce qualche gioco che mi interessa vada a vedere da lui cioè pure lui è pazzesco lui è riuscito a fidelizzare in una maniera allucinante stop cioè più che altro il discorso è questo comunque mi ha fatto piacere farci sta chiacchierata io penso che possiamo chiudere anche qui mi sa che quasi un'ora di chiacchierata addirittura siamo riusciti a farci io pensavo di farci solo altri 5 minuti e stop che poi tutto è partito semplicemente perché volevo prima di chiudere volevo farvi vedere sta parete e niente ah ti hanno chiesto quanto ti manca per il TH14 no il TH14 l'ho quasi maxato mi mancano due cavolatine su clash of clans mi mancano tipo solo le trappole le tesla mi sembra per maxarlo e i muri però vabbè i muri sono impossibili su clash of clans e niente anche a me ha fatto piacere vedremo se in futuro ne faremo di più anche se la vedo difficile e niente un bacione ci becchiamo direttamente domani spero con un video ora vediamo anche perché lo devo ancora registrare pensare eccetera va bene Bartolino sicuramente se ci spostiamo di là ne faremo molte di più tipo così però vediamo e niente un bacione ci becchiamo domani buona domenica sera e nada ciao ciao ciao